Ciao amici, io sono Alessio per chi non mi conosce, in questo corso io spazierò dall'inizio, dall'interfaccia Illuminar Neo fino a vedere i singoli strumenti che si trovano all'interno del software, andremo a vedere anche le estensioni ho installato tutte le estensioni che ci sono disponibili in questo momento, quindi vedrai come funzionano ma andremo a vedere anche i singoli strumenti, come funzionano, come vanno ad impattare sulle immagini e ti darò anche dei suggerimenti su quali parametri utilizzare o come utilizzare determinati strumenti per ottenere il meglio dalle tue foto si tratta di un corso piuttosto lungo, quindi qui sotto, sempre nelle note dell'episodio, per renderti le cose più facili ho diviso il video in tanti capitoli, in base agli argomenti, agli strumenti che vado ad analizzare quindi potrai saltare quelli che non ti interessano, andare direttamente allo strumento che ti interessa, che vuoi approfondire puoi passare avanti, indietro, puoi fare quello che vuoi in modo molto agevole l'unica cosa da sapere è che questo video che ho messo a disposizione totalmente in modo gratuito sul mio canale youtube sarà interrotto da della pubblicità che serve per finanziare il lavoro che ho fatto tuttavia se vuoi ottenere questo corso senza pubblicità, se vuoi scaricare le lezioni o l'intero corso per guardartelo con calma quando vuoi tu, qui sotto, sempre nelle note dell'episodio, ti do vari metodi, varie opportunità che puoi adottare per ottenere questo vantaggio per il resto, che posso dirti, mettiti comodo o comoda ed iniziamo questo percorso formativo se il video già ti piace, ti piace quello che ho fatto, metti già un like, mi farebbe molto piacere se guardi i miei video ma non sei iscritto al canale, iscriviti, mi darai una mano e noi ci vediamo alla fine del video con i saluti prima di iniziare a lavorare delle foto con Luminar voglio farti capire come funziona Luminar e questo ti chiederà molti aspetti anche nei passaggi successivi quando installi Luminar ti verrà creato un database infatti Luminar si basa sui database cosa sono i database? in sostanza va a salvare tutta una serie di informazioni sulle modifiche oppure anche organizzazione delle immagini che vai a gestire con Luminar nel mio caso qui sono su un computer Mac potrebbe essere leggermente diverso nella versione per Windows se vado nella cartella immagini e fin qui dovrebbe essere uguale anche per Windows dovresti trovare una cartella che si chiama Luminar o Luminar Neo o comunque un nome che richiama Luminar e all'interno come nel mio caso nella versione per Mac trovo tante cartelle e file trovo una cartella con backup e un file di backup trovo la cartella storia, la cartella immagini di esempio trovo un file database, cache database e l'applicazione ovviamente questo è solo per la versione Mac per Windows ripeto potrebbe essere differente ma la logica è quella in sostanza Luminar salva all'interno di un suo catalogo che possiamo vederlo come una sorta di cartella tutta una serie di informazioni il backup quindi salva appunto magari una copia del catalogo nel caso in cui tu lo perdi, lo danneggi, puoi recuperarlo e questa è una garanzia importante salva la storia, la storia di cosa? delle modifiche che tu vai a fare sulle tue immagini quindi se con Luminar tu prendi una foto a colori la trasformi in bianco e nero e poi ci metti una vignettatura bene, trerai in memoria tutti i passaggi e questo fa sì anche che tu non vada mai a rovinare l'immagine originale l'immagine a colori che è trasformata in bianco e nero non è che viene sovrascritta ma semplicemente rimane sempre a colori ma Luminar te la farà vedere in bianco e nero te la farà vedere con la vignettatura potrai salvarne una copia con quelle caratteristiche ma la storia rimane sempre qui a disposizione e potrai tornare indietro direttamente con le funzioni di tag che ti mette a disposizione Luminar ma lo vedremo e questo è alla base del funzionamento di Luminar il catalogo si può salvare si può fare un backup si può cancellare se ne può creare un altro quindi vedremo che con Luminar possiamo anche passare da un catalogo ad un altro eccetera ad ogni modo capito questo possiamo iniziare a lavorare con Luminar nella prima installazione dovresti trovarti delle immagini di esempio qui nella sezione catalogo la prima che trovi nel mio caso le ho cancellate ma come funziona Luminar? Luminar è composto da tre aree di lavoro o sezioni l'area catalogo l'area preset e l'area modifica o sezione modifica come vogliamo chiamarla io utilizzerò entrambi i termini probabilmente in questo mini corso ad ogni modo se hai delle immagini di esempio potrai accedere anche a preset e modifica nel mio caso non ho nessuna immagine è completamente vuoto quindi posso lavorare solo sul catalogo l'area di lavoro sezione catalogo è quella dedicata alla gestione delle foto infatti qui posso importare delle foto vedere tutte le foto che sono all'interno non ce ne ho neanche una e quindi direi che possiamo iniziare con l'importare delle nuove foto tu puoi anche eliminare le immagini di esempio in modo da partire con un catalogo bello pulito come si aggiungono le foto si può cliccare su aggiungi foto e si va a selezionare ad esempio una cartella si può aggiungere una cartella intera vedi che qui all'interno delle immagini ho l'escursione sulle tre cime di Lavaredo seleziono la cartella e posso cliccare su aggiungi io onestamente non utilizzo mai questo metodo ma utilizzo un metodo molto più spartano vado nel posto dove ci sono le cartelle tipo la cartella tre cime ho uscita da Sorapis e la trascino direttamente qui sull'area di lavoro catalogo di Luminar Neo facendo in questo modo vedi semplicemente viene importata la cartella e inizia la generazione delle anteprime infatti come ti dicevo Luminar si basa su un catalogo quindi lui va a creare delle anteprime che serviranno poi come riferimento per le modifiche che andrai a fare trovo ovviamente nella sezione cartelle la cartella che ho importato e quindi 2023 Sorapis con 256 foto e cliccandoci sopra ovviamente vedo tutte le foto ma qui trovo anche tutte le foto che posso espandere e le trovo divise per anno mese e giorno ovviamente va a trovare queste informazioni dai metadati dei file quindi le informazioni che ci sono all'interno dei file stessi qui trovi una cartella aggiunta di recente ti dice anche quando hai fatto una data importazione e qui c'è il cestino ma lo vedremo un po' alla volta importo un altro gruppo di foto quindi vado nuovamente a utilizzare questo metodo lo preferisco seleziono tre cime vedi che è anche una sottocartella panorami adesso vedrai cosa succede la trascino qui e semplicemente viene aggiunta eccola qui su cartelle la cartella tre cime e vedi che anche qui c'è una freccetta che mi sta a indicare guarda che c'è una sottocartella espando e c'è la cartella panorami quindi ha trovato anche la sottocartella qui sul catalogo vedo tutte le foto anche qui divise per anno mese però vedi erano due sezioni due giorni differenti e quindi me le ha divise il 26 avevo fatto l'uscita su rapis il 27 avevo fatto l'uscita sulle tre cime di lavaredo aggiunte di recente sempre stesso giorno stessa ora più o meno infatti l'orario è più o meno quello se passava un po' più di tempo mi avrebbe anche separato le importazioni in modo da vedere importazioni differenti e qui ho le mie foto cosa posso fare con queste foto? beh posso ovviamente adesso le vedremo organizzarle e tutto ma posso anche eliminarle quindi ad esempio se i panorami non mi interessano faccio il tasto destro e trovo tutta una serie di informazioni questi qui sono i menu contestuali delle cartelle e vale per ogni cartella vai qui tasto destro dal mouse e compaiono tutta una serie di informazioni ad esempio io voglio eliminare delle foto o cartella panorami posso eliminare delle singole foto vado sopra la foto che voglio eliminare tasto destro troverò una serie di menu li vedremo anche dopo qui per una serie di modifiche che possiamo fare ma possiamo cliccare ad esempio su sposta nel cestino di luminar facendo in questo modo questa foto sparisce dalla cartella ma attenzione la foto sarà ancora lì al suo posto adesso ti faccio vedere vedi che sono tre foto erano quattro vado qui mostrando il finder questa funzionalità dovrebbe essere disponibile solo per il mac se io vado qui vedi che ci sono ancora quattro foto uno due tre quattro perché ce ne sono tre perché ha spostato la foto nel cestino eccola qui cestino di luminar ma non è stata ancora eliminata dal computer per eliminarla dal computer io devo cliccare su svuota cestino cliccando lì mi avverte sei sicuro di voler eliminare tutti gli elementi nel cestino gli elementi selezionati saranno spostati nel cestino non puoi annullare questa azione sposta nel cestino è sparita torniamo su panorami torniamo a vedere sul mio computer ed ecco che le foto adesso sono soltanto tre andiamo a vedere sul cestino del mio computer ed ecco qui sul cestino del mio computer trovo la foto che ho eliminato quindi con questo passaggio capiamo che le foto nel primo step vengono semplicemente spostate nel cestino di luminar ma ancora sono all'interno del mio computer e successivamente cliccando su svuota cestino verranno spostate nel cestino del mio computer è molto importante questa cosa diverso è invece il menu all'interno delle cartelle quindi se io seleziono una cartella e questo è molto importante da conoscere e faccio tasto destro e clicco su elimina per sempre attenzione qui mi avverte che questa foto verrà spostata nel cestino di sistema eliminiamo andiamo a vedere nel mio cestino ed ecco che trovo la cartella intera con tutte le foto al suo interno non viene quindi passata la cartella sul cestino ma viene spedita direttamente sul cestino del mio computer questo è un passaggio molto importante da conoscere ma vediamo cosa possiamo fare con le foto qui ho le cartelle vado a vedere ad esempio su sorapis ho le mie foto e posso elencarle in vari modi posso mostrare tutte le foto vediamo cosa ho a disposizione posso visualizzare solo i file raw solo i preferiti le rigettate non contrassegnate le modificate importante è questa cosa del file raw infatti se io vado a farti vedere la mia cartella eccola qui vedi che io scattavo con la modalità raw più jpeg infatti la stessa foto la troviamo nelle due versioni e questo significa che attualmente all'interno di questa cartella ho dei doppioni e come puoi notare non si vede il nome del file si vede qui alla destra ci sono le informazioni sul file quindi andando sopra ognuno di essi posso vedere che ad esempio in raw riportano la scritta raw ma insomma me le trovo dei doppioni andando qui su in mostra e selezioniamo solo il raw potrò visualizzare solo il file raw non posso fare l'inverso ovvero vedere solo il file jpeg questa è una caratteristica nel caso in cui scatti con il doppio metodo puoi visualizzare anche i preferiti rigettata non contrassegnata o modificata perché? perché le foto si possono contrassegnare posso vedere qui compare un cuoricino posso contrassegnarla anche sopra il menu della foto posso impostare un contrassegno preferito rigettata e quindi posso per l'appunto dargli il cuoricino anche a questa vedi do dei cuoricini a caso e potrò dopo visualizzare attraverso questo filtro praticamente solo le foto preferite quelle con il cuoricino altra cosa che troviamo interessante andando su raw io ho messo i cuoricini ma se vado qui alla sinistra troverò ed è comparso dopo l'applicazione del primo cuoricino è comparsa la voce preferiti dove cliccando potrò vedere direttamente i preferiti cosa cambia questa modalità di filtro visualizzato i preferiti da qui piuttosto che da qua perché questo filtro preferiti sulla colonna di sinistra viene applicato a tutte le foto nel catalogo mentre se io lavoro su una singola cartella posso decidere di vedere i preferiti solo di questa singola cartella per il resto credo sia abbastanza facile da comprendere non serve andare a fare delle analisi specifiche possiamo elencare le foto per orario di scatola io modifica insomma ci sono tante possibilità di filtro possiamo visualizzare le anteprime in dimensioni piccole medie grandi per avere una visione più ampia qui abbiamo anche questo pulsantino che ti permette di nascondere questa colonna di destra che di base se non hai installato delle estensioni dovresti avere solo le informazioni sul file quindi vedi il nome del file la data dei dati exif praticamente hai la possibilità di impostare il contrassegno o toglierlo e poi anche ruotare eventualmente l'immagine se per un qualche motivo il tuo computer non ha catturato l'orientamento corretto hai visto che adesso appena io ho fatto una modifica è comparso qui in alto a sinistra vado magari utilizzare un'anteprima più grande è comparso questo simbolino sta a indicare che c'è stata una modifica infatti adesso qui andando su mostra cosa quelle modificate mi va a mostrare questa foto perché l'ho ruotata anche se è tornata all'orientamento originale però io gli ho fatto fare una modifica di rotazione e Luminar tiene in memoria la rotazione che è stata applicata quindi la modifica che ho fatto una cosa da sapere anche qui andiamo a rimettere delle dimensioni un po' più piccole vediamo la funzionalità più importante della sezione catalogo ovvero la possibilità di organizzare le tue immagini abbiamo già visto nella colonna di sinistra che le immagini sono già organizzate in parte in modo automatico divise per anno mese giorno troviamo la cartella preferiti le aggiunte ma troviamo anche modificate di recente cliccando lì vedo appunto le foto modificate di recente con Luminar tra cui questa foto che avevo ruotato ma questa funzionalità addirittura ha un sotto insieme di organizzazioni ad esempio organizzate per la data odierna settimana o mese e ti dà modo quindi di accedere velocemente agli ultimi lavori fatti o alle foto sulle quali stai ancora lavorando troviamo poi le cartelle ovviamente come ti ho già detto che rispecchiano le cartelle sul mio computer ma se io voglio riorganizzare queste immagini per selezionarne alcune metterle da qualche altra parte potrei utilizzare le sottocartelle quindi all'interno di questa cartella tasto destro creare una sottocartella ma non te lo consiglio perché questa modalità ti va a creare fisicamente una cartella sul tuo computer mentre io magari voglio mantenere l'organizzazione originale delle mie cartelle eccole qui per poi salvarle sul NAS sul disco esterno sul cloud non voglio creare delle sottocartelle quindi no non voglio questa cosa come posso fare posso creare delle cartelle virtuali le cartelle virtuali si vanno a creare con gli album infatti il termine è album e vediamo un attimino come funziona vado qui clicco su più per creare un album mi crea automaticamente un album con un nome generico e vedo qui due foto e ci sono due foto dove le ha prese semplicemente prima io ero posizionato avevo selezionato questa foto quindi in automatico quando ho creato l'album si è portato dietro quella foto perché ne vedo due perché questo qui è il file raw più jpeg infatti vedi che il filtro mostra non è stato limitato al file raw ed è una cosa molto utile perché se ad esempio io prendo un'altra foto prendiamo questa qui vediamo questa qui e voglio trascinarla in questo album la prendo la trascino eccola qui e vedi che ci sono quattro foto secondo luminar vado qui all'interno perché ne vedo qua indicate quattro e qua due perché si è portato dietro anche il file raw quindi è una cosa molto intelligente luminar riconosce il doppio scatto jpeg più raw o raw più jpeg quindi si porta dietro entrambe le foto l'album ovviamente si può rinominare tasto destro rinomina e lo chiamo test ok gli dai nome che vuoi tu e queste cartelle virtuali che non vanno a sconvolgere l'organizzazione dei file nel mio computer mi permettono anche di aggiungere foto in altre cartelle vado su tre cime prendo ad esempio questa ma posso selezionare anche più foto tre foto le trascino e vedi che me le porta qui dentro sono mescolate escursione 1 escursione 2 su rapis tre cime trovo tutte le foto all'interno di questo album virtuale posso creare gli album anche selezionando direttamente le immagini tasto destro e c'è la possibilità appunto di creare un album quindi creare una nuova diciamo cartella virtuale torniamo sugli album su queste cartelle perché possiamo ancora fare un'altra cosa per organizzare le nostre immagini ipotizziamo di aver creato tanti album e magari stiamo lavorando su un album che raccoglie tutta una serie di foto vorrei averlo a portata di mano mi basta selezionare l'album tasto destro e trovo la voce aggiungi a scorciatoie cliccando lì vedi che viene aggiunto l'album all'interno dei primi elementi nella colonna di sinistra quindi è lì a disposizione tra l'altro posso anche spostarlo lo seleziono e lo porto magari in un'altra posizione lo porto in alto oppure lo porto appena sotto i preferiti oppure torno a portarlo sotto il cestino posso spostare questo album anche le cartelle volendo tasto destro può essere aggiunta a una scorciatoia quindi per averla prima a disposizione come si eliminano le scorciatoie tasto destro rimuovi dalle scorciatoie in modo molto molto banale posso eliminare gli album tasto destro elimina album e questa attenzione ti dice solamente che verrà eliminato l'album verranno eliminate le collezioni di foto al loro interno ma le foto rimarranno lì al loro posto comprese le loro modifiche quindi anche se all'interno dell'album tu una foto la trasformi in bianco e nero anche se elimini l'album la foto poi rimarrà visivamente in bianco e nero dopo potrai anche riportarla a colori ma comunque la modifica che avevi applicato rimane lì gli album queste cartelle virtuali servono esclusivamente per organizzare le tue immagini concludo questa parte facendoti vedere una cosa molto interessante di luminar neo vado nel mio computer e vado nella cartella immagini e vado a cambiare il nome della cartella originale quindi adesso rapis vado a cambiare aggiungere tracking attenzione invio guarda cosa succede su luminar riconosce praticamente il cambiamento del nome in automatico ma non è finita qui se io prendo la cartella ad esempio tre cime e la trasferisco sulla scrivania andiamo qui sul computer non è cambiato nulla non mi dà nessun errore perché andando qui e vado a vedere questa è una funzionalità che mi permette il mac vado a vedere dove si trova la cartella mostra nel finder mi riconosce lo spostamento e quindi che è stata trasferita sul desktop del mio computer ma non è finita qui faccio un'altra cosa vado qui prendo questa immagine vado a cambiarla nel colore la trasformo in monocromatico non guardare quello che faccio ci sarà la sezione dedicata vado su modifica sviluppo e semplicemente applico sul colore una desaturazione eccola qui e torno sul catalogo ho la mia anteprima ovviamente in bianco e nero desaturata perché ho tolto la saturazione adesso io chiudo il luminar mio e sposto la cartella quindi chiudo il luminar mio vado sulla scrivania trasferisco l'immagine la cartella su immagini dove era prima eccola qui e vado anche a cambiarci il nome ci aggiungo tracking anche qui tracking perfetto vado a riaprire il luminar mio vediamo cosa succede ecco qui il luminar mio in modo del tutto automatico mi ha rinominato la cartella e anche trovato dove si trova e ha riconosciuto la modifica quindi veramente tanta tanta roba c'è solo un caso in cui luminar potrebbe andare in errore ad esempio guarda cosa faccio vado a chiudere il luminar mio vado a cestinare questa cartella delle tre cime la butto nel cestino dopodiché vado ad aprire il luminar mio e attenzione a cosa succede eccolo qui adesso lui non mi trova più la cartella come posso fare tasto destro trova cartella oppure la rimuovo dal catalogo adesso io farò una cosa differente andrò a spostare la cartella sul desktop quindi vado a prendere sul cestino la trascino sulla scrivania sul desktop e luminar mio automaticamente me la ritrova quindi è una cosa veramente impressionante luminar mio riesce a ritrovare le cartelle in modo totalmente automatico all'interno del mio computer ovviamente adesso sta rielaborando un pochino le anteprime perché era sul cestino e quindi sta anche controllando che ci sia tutta la corrispondenza con i metadati ovviamente anche da qui posso rinominare la cartella torno a riportare il nome originale sia sul sorapis e sia su tre cime e se io vado a vedere le mie cartelle originali vedi che sono state cambiate sia la cartella che si trovava qui sia sulla scrivania che ritrascino su immagini tutte e due lì tutto a posto è riuscito a fare le modifiche e riconoscerle in modo totalmente automatico ma come hai visto prima nel caso in cui non ci sia una corrispondenza ti permette di ritrovarla col tasto destro trova cartella luminar mio ha una caratteristica è un software che può essere potenziato aggiungendo delle estensioni al software le estensioni che si chiamano extra le trovi cliccando qui in alto a destra cliccando qui si apre questa finestra che è composta da tre schede estensioni marketplace e membership x andando su estensioni troverai tutta una serie di componenti aggiuntivi che puoi acquistare oppure che acquisti direttamente in sconto quando vai a scegliere la licenza ti fanno delle offerte di vario tipo e questi componenti aggiuntivi vanno a potenziare le funzionalità del software qui vedi che ad esempio c'è fusione hdr senza disturbo upscale rimozione sfondo focus stacking super nitido luce magica e stitching panoramico e poi verranno aggiunte altre estensioni in base a come verrà sviluppato nel tempo il software e puoi notare ad esempio che nella mia sezione catalogo nel video che sto facendo sono presenti quattro estensioni che probabilmente tu se stai utilizzando la versione base del software non hai a disposizione o fusione hdr focus stacking ingrandisci assemblaggio foto panoramiche sono le estensioni che troviamo qui ma come puoi notare ce ne sono certe di non presenti ad esempio senza disturbo o rimozione sfondo o luce magica non sono presenti qui sulla colonna di destra questo perché vengono inserite nella sezione modifica tra gli strumenti disponibili ma lo vediamo più tardi ad ogni modo tornando qui abbiamo le estensioni che possiamo acquistare installare dopodiché possiamo andare sul marketplace e qui troviamo tutta una serie di componenti aggiuntivi come preset cieli loot sovrapposizioni messi a disposizione da utenti selezionati da skyloom per luminar neo e questi si acquistano si aggiungono al carrello si pagano vengono scaricati e si installano sul software poi c'è membership x qui troviamo tutta una serie di funzionalità componenti aggiuntivi preset cieli adesso non so di preciso quanta roba c'è probabilmente verrà anche implementata e sono tutti componenti aggiuntivi a disposizione per chi ha sottoscritto un abbonamento con skyloom per luminar neo quindi in sostanza è un vantaggio che viene dato a chi sottoscrive un abbonamento per chi non ha un abbonamento non può ottenerli se non appunto cliccando su ottieni iniziando questo piano membership x di almeno un anno per ottenere questi componenti aggiuntivi adesso chiudo questa finestra e vediamo un pochino queste estensioni che troviamo a disposizione nella sezione catalogo ad esempio fusione hdr per creare un hdr quindi io vado ad espandere questa funzionalità e qui mi chiede di trascinare da 1 a 10 foto per creare l'hdr bene vado a prendere delle foto hdr che ho già selezionato prendiamo queste vediamo una due tre foto vado anche magari a visualizzare un po' più in piccolo le immagini eccole qua queste tre foto sono tre foto fatte con un intervallo di esposizione differente e le prendo e le trascino qui su fusione hdr adesso attendiamo che luminar neo faccia la sua analisi e vedi già mi individua la foto 0 la foto sottoesposta a meno 2 stop e la foto sovraesposta a più 2 stop qui ho delle opzioni ma ne parlo nel video insomma per attivare l'allineamento automatico riduzione la brillazione cromatica eccetera dacci un occhio e posso creare l'hdr clicco su fusione luminar neo inizierà a fare la sua analisi delle tre immagini per crearmi al volo un hdr una volta terminato vedi che mi crea una cartella dedicata hdr merge dove c'è già la foto doppio clic per ingrandirla la foto ottimizzata in hdr effettivamente è riuscita piuttosto bene ho il dettaglio nelle ombre ho il dettaglio anche nelle zone più chiare non c'è la possibilità di vedere un prima o dopo peccato però se vado in hdr posso farmi comunque un'idea sull'immagine era l'unione di questa più questa più questa vedi tre immagini con tre esposizioni differenti si ottiene questa immagine qui hdr merge c'è proprio una cartella fisica sul mio computer infatti se vado a vedere dove è stata piazzata è nella stessa cartella dove si trova il catalogo immagini ho la mia cartella del catalogo luminar e c'è una cartella che si chiama hdr merge dove all'interno c'è il file che è un file in formato tif sul file viene riportato anche la dicitura hdr per riconoscerlo e questa qui è la funzionalità hdr proviamo anche a fare l'altro hdr prendiamo queste tre immagini e le trascino su fusione hdr e lasciamo che luminar neo faccia la sua magia faccia la sua analisi luminar neo ha terminato andiamo a vedere qual è il risultato finale è questo qui qui vedi una vignettatura normale dopo andremo a fare il crop ma vedi come ha creato un file diciamo pronto per una lavorazione un po' più complessa da fare nella sezione preset o modifica per ottenere un file finito ma il suo lavoro creazione dell'hdr l'ha fatto in modo molto valido andiamo su assemblaggio foto panoramiche perché qui andiamo a creare un panorama ho selezionato delle immagini il panorama funziona seno orizzontale quindi prendo questa serie di foto fatte sulle tre cime di lavaredo le trascino qui vedi che la procedura è sempre la stessa qui ho delle opzioni disponibili correzione della distorsione rimozione vignettatura eccetera aberrazione cromatica ok posso anche rimuovere tutti i file e clicco su inizia per far sì che Luminar Neo inizi a fare l'unione di queste foto qui ci sono dei passaggi intermedi ma vedi tutto appunto nel video dedicato in modo più approfondito dove in sostanza mi fa l'unione di tutte le foto e poi avrò qui a disposizione degli strumenti che servono per trovare il metodo più corretto per l'immagine che sto gestendo per unirla in panorama ecco qui ha terminato vedi mi ha creato il panorama siamo in questa modalità la modalità sferica io qui posso muovere il tutto e questa qui è veramente una caratteristica unica presente solamente in questo software tra quelli che conosco io che mi permettono di muovere in questo modo trovare il giusto punto per la distorsione oltre a poter come tanti altri software scegliere il metodo di gestione delle immagini panoramiche ma poterlo allineare in questo modo soltanto su Luminar Neo ho trovato questa possibilità una volta fatto clicco su continua qui mi farà un'anteprima ancora una volta con il taglio come verrà fatto nell'immagine se non mi va bene posso applicare delle correzioni se mi va bene mi basta cliccare su ritaglia e a questo punto vediamo un'immagine finale e confermo una volta cliccato su salva Luminar Neo comincia proprio a creare il vero e proprio file ed esattamente come per l'HDR mi creerà una cartella sul mio computer dove salverà il file in formato TIF che è questo file panoramico ecco terminato come avevamo detto qui troviamo il nostro bel panorama che tra l'altro va detto sono delle immagini ad altissima risoluzione tra l'altro unite in panorama quindi le dimensioni i pesi saranno enormi vedi che questo file pesa 660 megabyte e troviamo anche la cartella fisica panorama stitching tasto destro mostra nel finder vado a vedere dove si trova e qui io ho il mio bel file da 600 da quasi un gigabyte di peso un poco più della metà dai per essere sinceri ma vedi questo file piuttosto grande che io dopo potrò gestire con l'editing fotografico e l'unione panoramica veramente funziona molto bene vado a prendere però un'altra tipologia di paesaggio questo qui vedi che questo paesaggio è stato creato in verticale quindi dall'alto verso il basso funziona allo stesso modo funziona anche con un mix di più foto fate sia in orizzontale che in verticale quindi puoi veramente fare di tutto le trascine qui in assemblaggio e posso iniziare appunto la creazione del panorama andiamo anche qui a vedere cosa mi propone ha terminato ed ecco qui come mi ha creato il panorama adesso si potrò magari cercare una soluzione più adatta per la gestione di questa tipologia di immagine ecco probabilmente l'ultima è quella più azzeccata questa qui può andar bene clicco su continua mi propone il taglio che andrebbe a fare Luminar Neo ritaglia questa è l'immagine finale se mi va bene salva e viene creato anche qui il file tif ci tengo anche in questo caso a farti vedere come questa immagine lasciamo il tempo che venga generato il file come l'unione del panorama è veramente fatta bene non si riesce a notare dov'è il punto di giuntura tra gli scatti ovviamente è necessario che gli scatti vengano fatti con criterio altrimenti il risultato insomma miracoli non ne possiamo fare però diciamo che il risultato è veramente ottimo veramente veramente fatto bene non mi resta che concludere con ingrandisci che è questa funzionalità che ti permette di fare un upscale appunto sugli extra attualmente si chiama dove è quello qui upscale sempre basato su AI ad ogni modo qui cosa posso fare ingrandire le foto vado a prendere una foto quindi vado qui sulle tre cime e vado a scegliere un'immagine che io voglio ingrandire ulteriormente vediamo se trovo un'immagine l'avevo vista tempo fa è questa immagine qui la porto su ingrandisci ok qui mi chiede innanzitutto quanto voglio ingrandirla 2x 4x 6x insomma potrò scegliere sono fisso 2x probabilmente perché ho già il file grandissimo non so se ci sono dei limiti sulle dimensioni andiamo a vedere sulle opzioni disponibili upscale il type qui scelgo tra universale e sperimentale sono due algoritmi di creazione della nuova immagine con miglioramento dei dettagli miglioramento del viso non mi interessa eccole qui le dimensioni minime di input sono queste dimensioni massime sono queste sul lato più lungo le dimensioni massime di input sono queste insomma le dimensioni limiti dell'immagine ecco allora spiegato probabilmente perché non posso fare un 4x un 6x perché appunto ecco qui sto passando sopra con il mouse eccede i limiti impostati perché questi file sono fatti con una Leica Q3 che ha una risoluzione veramente molto molto alta la vedi qui è altissima quindi non riesce ad ingrandire più del 2x ad ogni modo fatto questo clicchiamo su ingrandisci e vediamo cosa combina Luminar Neo ecco qui ha terminato l'elaborazione di questo file ci ha messo veramente tanto tempo ma appunto credo sia dovuto al fatto che le dimensioni del file della Leica Q3 era già grandissimo di suo andiamo a fare un doppio clic e andiamo a vedere qual è il risultato adesso farò un ingrandimento wow è veramente veramente molto grande e caspita il dettaglio è veramente molto buono molto buono adesso andiamo a vedere il file originale quindi torno su tre cime di Lavaredo e vado a ripigliarmi quel file che era qui giù vediamo se lo ritrovo eccolo qui era questo qui era questo qui andiamo a vedere questo era l'ingrandimento originale questa era la risoluzione originale del file ecco qui dettaglio veramente molto molto buono andiamo a vedere Upscale anche qui crea ovviamente un file una cartella scusa dedicata sul computer e vedi che il dettaglio c'è insomma c'è un ingrandimento qualche insomma qualche piccolo artefatto c'è ma ci sta veramente bene fa un ottimo un ottimo lavoro andiamo a vedere la cartella nel nostro computer Upscale all'interno di immagini e si tratta di un file JPEG JPEG dimensioni enormi eccolo qui 12.000 pixel per 19.000 e niente questo è il risultato che otteniamo come vedi lo genera in JPEG quindi non va a creare un file TIF come in precedenza ma guarda che dettagli anche sul versante di una delle cime delle tre cime di Lavaredo per concludere andiamo a vedere il Fox Stacking questa funzionalità ti permette di unire delle foto che hanno un punto di messa a fuoco differente tu vorresti avere una foto nitida su tutti i punti di messa a fuoco per farti capire qui ho selezionato due immagini sembrano simili andiamo a mettere un ingrandimento maggiore eccolo qui però se andiamo a vedere l'immagine questa in primo piano è perfettamente nitida guarda che dettaglio sulle foglie però sullo sfondo qui la cascata è sfocata se andiamo a vedere la seconda immagine che vedi è identica perché era stata fatta con il treppiede fermi sullo stesso punto foto in sequenza se vado a vedere l'altra foto qui avevo messo a fuoco lo sfondo infatti la cascata è perfetta però gli elementi in primo piano e qui lo vedi abbastanza bene hanno perso del dettaglio questo succede perché nonostante si vada ad utilizzare magari un diaframma molto chiuso sulla fotocamera non si può andare oltre certi valori altrimenti si cade nella diffrazione quindi una perdita di qualità e se si utilizzano dei diaframmi aperti fino a un certo punto beh succede che non riesci a mettere a fuoco gli elementi in primo piano e sullo sfondo tutti nello stesso scatto per questo motivo salvo non utilizzare un obiettivo decentrabile ma stiamo parlando di un'altra cosa si fa uso del focus stacking praticamente è una tecnica software che va ad unire le due foto prendendo le parti migliori di ogni foto fa un'analisi e tiene solo le parti nitide creando un nuovo file di entrambe le foto il procedimento è sempre lo stesso andiamo a selezionare le due immagini e le trascino su focus stacking ecco qui qui abbiamo delle opzioni dove possiamo impostare l'allineamento automatico se abbiamo fatto lo scatto a mano libera quindi magari c'è una piccola differenza ci chiede di dire quali delle due foto o tra le tante foto quale è la foto di riferimento dopodiché possiamo anche attivare la riduzione e l'aberrazione cromatica rimuovo tutte le immagini no bene posso procedere applica stack e qui Luminar Neo comincia a fare l'analisi delle immagini per poi unirle dopo aver individuato le parti migliori più nitide di ogni scatto messo a disposizione che gli abbiamo dato in pasto Luminar Neo ha terminato come sempre mi crea una cartella fisica mostra nel finder eccola qui la cartella che contiene l'immagine in formato TIF anche questa bella pesante ma andiamo a vedere qual è il risultato finale quindi vado ad ingrandire sullo sfondo perfettamente nitido e andiamo a vedere in primo piano perfettamente nitido quindi è andato a fondere le due immagini in modo ottimale tra l'altro qui c'è anche il movimento della cascata il movimento dell'acqua e il risultato è veramente molto molto buono ovviamente io qui potevo fare altri scatti proprio partendo dal punto qui più anteriore e poi andare sempre più in fondo per ottenere tutti i piani di messa a fuoco perfetti l'editing delle immagini tramite preset è sicuramente il metodo più rapido immediato per editare le tue foto ed è anche quello che ha reso più famoso Luminar Neo e adesso ti spiegherò il motivo ad ogni modo per accedere a questa modalità è molto semplice ti basta selezionare l'immagine puoi cliccare sulla sezione preset se vuoi cambiare immagine devi tornare sul catalogo selezionare un'altra immagine e cliccare su preset è chiaro quindi che bisogna sempre tornare al catalogo per cambiare immagine in questa sezione ti trovi l'immagine prescelta bella grande al centro e sulla destra una colonna con tutta una serie di gruppi di presetaggi e anche dei presetaggi suggeriti ma prima di vedere nel dettaglio i preset di cosa si tratta Luminar Neo è famoso per il fatto che applica dei preset sfruttando l'AI ovvero l'intelligenza artificiale e qualcuno pensa in sostanza che il software faccia tutto da solo ma non è così ad esempio vado qui tra i preset suggeriti questo gruppo paesaggi ha inteso Luminar Neo che questo è un paesaggio vado all'interno trovo una serie di presetaggi messi a disposizione e andando sopra con il mouse vedi che già cambia l'estetica dell'immagine ma ancora una volta si tratta di automatismi che fa il software delle modifiche che fa il software in modo automatico assolutamente no o meglio in parte infatti questi sono presetaggi comunque delle impostazioni che dopo tu potrai modificare ma Luminar Neo sfrutta l'AI l'intelligenza artificiale per adattare ad esempio questo cieli sereni su questa immagine in modo differente da come la applica ad esempio su questa immagine quindi sempre su paesaggi se vado a scegliere cieli sereni me la applica in un altro modo questo è il motivo per il quale fa uso dell'AI dell'intelligenza artificiale solamente per adattare dei presetaggi in modo ottimale in base all'immagine che vai a gestire non significa che si inventa l'editing e come ti ho detto quando tu scegli un presetaggio come in questo caso cieli sereni potrai comunque dopo intervenire per modificare le impostazioni che ha scelto ed applicato Luminar Neo quindi compreso questo torniamo sull'elenco dei preset e vediamo cosa abbiamo a disposizione quando noi apriamo un'immagine Luminar Neo sempre sfruttando l'AI ovvero l'intelligenza artificiale cerca di capire che tipologia di foto abbiamo davanti e ci suggerisce dei gruppi di preset infatti qui abbiamo per questa foto lui mi suggerisce dei paesaggi in una set di preset per i paesaggi ce ne sono di varie tipi ad esempio uno due paesaggi semplici un'altra selezione di presetaggi ma possiamo anche andando avanti trovare cieli naturali e ancora eccolo qui paesaggi drammatici però questa tipologia di presetaggi bisogna acquistarla non è inclusa nel software quindi cliccando qui mi propone appunto eccolo qui l'estensione specifica paesaggi drammatici costo 19 euro posso acquistare questo presetaggio ma torniamo ai preset suggeriti quindi ad esempio scelgo paesaggi semplici vado sopra a uno di questi scelgo questo ci clicco sopra viene applicato e qui ho anche la possibilità di decidere l'intensità di questo preset di questo presetaggio di come deve essere applicato sull'immagine per ripristinare l'immagine tipo ho applicato questo preset torno indietro se voglio ripulire l'immagine vado qui sotto su azioni e troverò cliccando lì riporta originale e verrà ripristinata andiamo ancora a vedere qui cosa abbiamo a disposizione abbiamo l'elenco di gruppi di preset suggeriti ma possiamo aggiungere dei preset che abbiamo acquistato quindi se li avevi acquistati e disinstallato il software poi lo rinstalli ai file scaricati sul tuo computer che vuoi aggiungere qui clicca su aggiungi e potrai andare all'interno del tuo computer e selezionare il file installabile su Luminar Neo oppure puoi acquistare dei preset messi a disposizione ottieni più preimpostazioni si apre sempre il marketplace nella sezione preset e posso scegliere appunto un preset vedi qui ci sono i prezzi e scelgo quello che mi aggrada di più voglio vedere ad esempio questi qui per bianco e neri o meglio questo per i paesaggi visualizza preset e avrò una piccola anticipazione di cosa potrò fare vedi da così a così qui c'è un altro esempio di immagine come viene gestita e se trovo il gruppo di preset che mi interessa che mi piace posso acquistarlo tutto molto semplice ad ogni modo ne abbiamo tanti qui a disposizione vedi ci sono quelli suggeriti per questa foto ma ci sono anche dei preset essenziali vedi ce ne sono alcuni che posso tentare anche viso in evidenza nonostante sia pensato per i volti non per i paesaggi ma ci sta insomma posso andare su paesaggi che sono gli essenziali appunto ma ne abbiamo altri di paesaggio abbiamo luci della metropoli tramonti ad esempio questo qui è un tramonto potrei andare qui dentro e vedere se c'è un preset che rende meglio per il tramonto guarda questo che guarda questo come tira fuori il dettaglio sulle ombre la immagine da prima a dopo posso anche selezionarlo e provare vedi da così era l'immagine originale e gli do il dosaggio ideale per tirare fuori dei dettagli sull'immagine renderla più carina guarda è riuscita veramente bene e cosa ci ho messo un attimo ho fatto un clic ho scelto il preset qui posso anche metterci il cuoricino per inserirlo tra i preset preferiti ad esempio ma vedi ne ho molti qui c'è anche la sostituzione del cielo ripeto sono dei presetaggi quindi dopo possiamo anche fare degli interventi su questi preset quando andiamo a vedere la sezione modifica ad ogni modo funziona così vedi che qui adesso è comparso preferiti andando qui trovo i preset quelli che ho preferito quelli che mi piacciono di più quelli ai quali ho dato il valore cuoricino posso sceglierlo ed applicarlo posso anche cliccare qui per fare un reset dell'impostazione lo riseleziono e verrà riapplicato per poi ridosarlo in modo molto semplice compreso questo torniamo sull'elenco preset e vediamo cosa abbiamo qui a disposizione vedi ce ne sono tanti filmato macro ci sono veramente tanti tanti preset già disponibili su Luminar Neo quindi prima guarda quelli che hai a disposizione e poi deciderai se acquistarne altri compreso questo adesso vado a chiarire un aspetto che interessa soprattutto a chi è un po' scettico sul fatto che un software vada a sfruttare così tanto le AI per editare le immagini infatti ti ho detto che i preset che vengono applicati anche grazie alle AI possono essere modificati nelle impostazioni in base a delle scelte personali quindi puoi intervenire su quello che ha fatto il software e come si fa bisogna andare nella sezione modifica che verrà approfondita nella prossima parte del corso ma intanto voglio farti vedere dove si trovano tutte le modifiche applicate con il preset cliccando su modifica accedi a questa sezione che ti permette di editare l'immagine con tutti gli strumenti messi a disposizione da Luminar Neo però qui dove c'è la scheda strumenti a fianco trovi la scheda modifiche con un puntino significa che questa immagine ha delle modifiche applicate ovvio applicato un preset cliccando lì troverò l'elenco di tutte le modifiche che ha applicato in modo automatico Luminar Neo sfruttando anche delle funzionalità di AI quindi di intelligenza artificiale ad esempio la struttura migliora con AI insomma delle funzionalità e andando all'interno posso trovare i parametri che è andato ad applicare e quindi potrò anche decidere ad esempio su supercontrasto vedi che ha applicato determinati parametri di cambiare questi parametri per adattarli meglio alle mie esigenze e posso anche ovviamente ripristinare l'immagine torniamo su preset perché rimanendo qui andremo ad approfondire nella prossima parte del corso la sezione modifica concludiamo col guardare cosa ci mette a disposizione qui sotto Luminar Neo qui con l'immagine editata posso vedere l'immagine come era prima dopo qui posso vederla prima e dopo con questa divisione molto interessante ovviamente si riclicca per disattivare qui ho la possibilità di ingrandire l'immagine per poi spostarmi ma funziona anche con il click dal mouse in questo caso l'ingrandimento va al 100% passa dalla modalità adatta allo schermo alla modalità 100% su azioni io posso semplicemente riportare ad originale l'immagine quindi ripristinarla oppure salvare come preimpostazione questi determinati parametri infatti io ero andato su modifica avevo modificato i suggerimenti che aveva scelto Luminar Neo sfruttando anche le AI eccetera quindi avevo modificato le scelte del preset e a questo punto mi chiede mi dà la possibilità Luminar Neo di salvare queste impostazioni come un nuovo preset cliccando qui mi chiederà appunto di dare un nome al preset lasciamo quello preimpostato e lo salva su le mie impostazioni se vado fuori e sono nella sezione preset oltre a quelli suggeriti ai preferiti che avevo salvato a quelli acquistati a quelli esistenti trovo anche le mie impostazioni preferite andando qui dentro troverò il preset che ho creato io posso andando qui nel menu rinominarlo eliminarlo e anche cercarlo questa è una funzionalità che forse è disponibile solo per Mac ma non lo so per Windows magari hanno messo questa funzionalità anche lì mi dà modo di andare a vedere nel mio computer dove si trova questo preset che è questo qui questo preset posso salvarmelo in modo da recuperarlo per magari reinstallarlo non l'ho mai provato ma credo si possa salvare e reinstallare magari in una nuova installazione su un altro computer di Luminar Neo ad ogni modo qui abbiamo i preset per l'appunto e possiamo gestire l'editing delle nostre immagini in questo modo ancora una volta guarda a costo di ripetermi vado a vedere come funziona tanto tanto bene questo intervento superpotenza e vado a regolarlo guarda una semplice regolazione intorno al 40 eccolo qui vediamo prima o dopo prima dopo un semplice clic in due secondi ho un'immagine che già come punto di partenza è ottimale per poi fare magari le mie modifiche aggiuntive nella sezione modifica con strumenti che vediamo fra poco e adesso è arrivato il momento di vedere la sezione modifica per accedere a quest'area di lavoro si clicca sull'immagine e appunto andiamo a cliccare sulla scheda modifica qui avremo al centro l'immagine adattata alle dimensioni dello schermo e avremo una colonna alla sinistra e una alla destra alla sinistra abbiamo la colonna dei livelli le vedremo durante questo corso e alla destra abbiamo l'elenco di tutti gli strumenti disponibili su Luminar Neo divisi per categorie preferite estensioni essenziali creativo eccetera li vediamo fra poco prima di iniziare però andiamo a vedere alcune cose di base ad esempio sul visualizzatore qui sotto abbiamo le stesse funzionalità che c'erano anche nella sezione area di lavoro preset in pratica possiamo vedere prima o dopo prima o dopo divisa l'ingrandimento e abbiamo le azioni per rimpostare l'immagine o salvare delle impostazioni come un nuovo predefinito ma una cosa interessante da sapere è che quando noi lavoriamo un file raw infatti tornando qui sul catalogo vedi che questo file lo vedo nella colonna di destra si tratta di un file raw indicato qui nella sezione modifica ci troveremo la scheda modifica infatti abbiamo la scheda strumenti la scheda modifica già attiva con un pallino qui indicato significa che c'è già qualcosa dentro clicchiamo su modifiche qui troveremo l'elenco di tutte le modifiche che andiamo a fare non è stata ancora modificata questa immagine ma essendo un file raw Luminar Neo già ci mette a disposizione due strumenti che servono per gestire il file raw in particolare troviamo raw senza disturbi in pratica possiamo eventualmente applicare un intervento che va a ridurre un po' il rumore nel file digitale e poi abbiamo lo strumento di sviluppo che è alla base della gestione di un file raw un file raw va sviluppato quindi c'è proprio questo strumento sviluppo tornando su strumenti invece abbiamo tutto l'elenco dei strumenti tra cui troviamo anche lo strumento sviluppo eccolo qui ad esempio che era lo stesso che troviamo già pronto qui sul file raw stessa cosa per raw senza disturbi ma ad ogni modo le modifiche raw questa è la cosa importante sono già pronte non sono state modificate però gli strumenti sono già lì se invece io guarda te lo faccio vedere vado a selezionare il file jpeg quindi cambio la visualizzazione da solo raw metto tutti i file in modo che possa vedere i due file perché qui scattavo con la modalità jpeg più raw seleziono questo file che vedi qui alla destra non c'è più la targhetta raw come in precedenza perché si tratta di un file jpeg nel caso del file jpeg quando io vado in modifica modifiche è completamente vuoto ho solo gli strumenti a disposizione quindi questa è una differenza da tenere in considerazione io torno a selezionare il file raw perché mi interessa lavorare sui file raw ad ogni modo veniamo qui a noi abbiamo il nostro file raw abbiamo la colonna dei livelli e la colonna degli strumenti clicchiamo su strumenti serie modifica e andiamo adesso ad analizzare punto per punto tutti gli strumenti che abbiamo qui a disposizione i primi elementi che troviamo nella colonna strumenti sono proprietà layer e ritaglia proprietà layer è strettamente legato al livello che lo vedi sulla colonna di sinistra sulla quale stai lavorando quando apri un'immagine per la prima volta il livello selezionato è quello di base ce n'è solo uno e possiamo fare alcune cose le vedremo quando andremo ad analizzare un po' più nel dettaglio come funzionano i livelli ma di base qui ci puoi gestire l'opacità ci puoi gestire il tipo di fusione ma la approfondirò più avanti cosa ecco magari più interessante può essere il fatto che qui puoi specchiare l'immagine quindi puoi ruotarla dalla parte che ritieni più opportuna tante volte un'immagine così non rende messa in questo modo rende di più dal punto di vista estetico anche se non rispecchia esattamente la realtà insomma si può fare questa cosa l'altra funzionalità che abbiamo è ritaglia ritaglia molto semplice fa il crop dell'immagine puoi agire in vari modi puoi usare vedi qui le maniglie per agganciare gli angoli e quindi spostare l'inquadratura a decidere il ritaglio qui sta mantenendo le proporzioni dell'immagine originale tuttavia se vai a vedere qui nel menu hai delle opzioni disponibili prima di tutto puoi scegliere un altro metodo di rapporto di ritaglio quindi magari metti un taglio quadrato vedi a questo punto rimane vincolato sul ritaglio quadrato puoi anche cambiare nel caso in cui utilizzi un ritaglio rettangolare mettiamo 16 noni come in questo caso puoi anche ruotare il ritaglio se devi fare una foto da pubblicare nei social tipo instagram eccetera quindi quando hai la necessità di un ritaglio verticale quindi qui all'interno hai tutte le proporzioni e vedi che hai anche delle proporzioni già preimpostate feed facebook copertina facebook puoi anche inserire dei rapporti personalizzati arbitrario significa che fai il ritaglio come ti pare e piace non sei assolutamente vincolato o vincolata a dei rapporti normali vado a reimpostare l'immagine perché c'è una funzionalità molto interessante su questo strumento il fatto ovviamente più banale che puoi allineare l'orizzonte quindi cliccando qui viene allineata mi sembrava averla fatta piuttosto in bolla onestamente però lui ha riscontrato un qualcosa non so bene come faccia a determinare questo allineamento se valuta l'immagine o cosa presumo visto che fa uso dell'AI che analizzi l'immagine cerchi e individui secondo lui il fatto che l'immagine non è perfettamente allineata o meno abbiamo altri strumenti piuttosto semplici da comprendere abbiamo la rotazione puoi ruotare l'immagine e puoi anche qui fare la specchiatura dell'immagine un po' come quella che si faceva su layer ma appunto questa qui lavora in modo globale questa qui in modo specifico su layer però cosa molto bella interessante più che bella dipende un po' da noi è questa funzionalità che si basa sull'AI praticamente l'intelligenza artificiale per determinare qual è la composizione più adatta per questa immagine quindi noi abbiamo le proporzioni originali clicchiamo su composition ed ecco che secondo Luminar Neo questo dovrebbe essere il ritaglio più idoneo per avere una buona composizione dell'immagine e qui c'è una cosa interessante da vedere ovvero quando tu vai a cambiare le proporzioni dopo aver cliccato su composition ad esempio mettiamo 16 noni automaticamente Luminar Neo fa il ritaglio e me la va a riposizionare come dovrebbe essere la composizione più corretta secondo lui perché se adesso io clicco su composition si ritorna al taglio quello con il rapporto originale quindi ogni volta che tu clicchi composition lui va sul taglio sul rapporto originale dopodiché tu puoi cambiare magari le proporzioni mettiamo un quadrato ecco che allora lui ti individua che questa dovrebbe essere la posizione più adatta per la composizione in formato quadrato oppure in 4 quinti individua lui qual è il taglio più adatto quindi si parte sempre dal cliccare composition se vogliamo sfruttare le AI l'intelligenza artificiale dopodiché scegliamo magari il formato che vogliamo lui si adatta in modo automatico una volta che ci va bene il ritaglio clicchiamo su applica e verrà applicato alla nostra immagine eccola qui vedi ci ha messo un pochino a fare l'elaborazione ma poi l'ha applicata prima di andare avanti con gli altri strumenti vi faccio vedere una cosa interessante su questa immagine io ho fatto un crop dell'immagine l'ho ritagliata con rapporto 16 noni e ho anche applicato la composizione tramite AI di Luminar Neo tuttavia se io vado nella scheda modifiche qui continuo a trovare i due strumenti di base per il RAW RAW senza disturbi di sviluppo ma non c'è la modifica che ho fatto con il ritaglio e ricomposizione del ritaglio e questa qui è una cosa molto curiosa in sostanza gli interventi che io faccio su propietà layer e ritaglia non vengono registrati come storico come passaggio all'interno delle modifiche del file tuttavia ovviamente c'è stato un intervento quindi se io vado qui sotto su azioni troverò il pulsante attivo riporta a originale quindi cliccando lì si ritornerà praticamente all'immagine senza ritaglio fatto in precedenza vediamo ora gli altri strumenti che abbiamo a disposizione sull'Uminar Neo ti faccio subito notare che gli strumenti sono raggruppati vedi preferiti poi ci sono estensioni essenziali creativo e via dicendo questi gruppi tranne il primo sono dei gruppi predefiniti creati dagli sviluppatori quindi gli strumenti sono stati catalogati in questo modo tranne appunto i primi preferiti perché qui puoi aggiungere tutti gli strumenti che desideri ti faccio un esempio molto banale vado qui su essenziali vedi che c'è sviluppo faccio tasto destro sopra lo strumento e c'è la possibilità di aggiungerlo ai preferiti cliccando lì lo strumento sviluppo viene aggiunto all'interno dei preferiti se voglio eliminarlo tasto destro rimuovi dei preferiti tuttavia trovi già due preferiti messi a disposizione migliora con che fa uso dell'AI e cielo anche questo fa uso dell'AI sono due strumenti anche questi puoi eliminarli col tasto destro dai preferiti tuttavia sono due strumenti che gli sviluppatori ti mettono lì a disposizione perché effettivamente sono comodi per fare una modifica iniziale o anche semplicemente per fare questo tipo di modifica cominciamo con migliora con che fa uso dell'AI espandendo questo strumento abbiamo solo due slider a 100 migliora cielo guarda questa immagine io aumento lo slider di accento e l'immagine viene migliorata che parametri utilizza che impostazioni fa che interventi fa per migliorare questa immagine beh non è molto chiaro nel senso che è un'analisi che fa Luminar Neo tramite l'AI sull'immagine e cerca di migliorarla sul contrasto sulla luminosità delle zone d'ombra sul cielo abbiamo poi lo slider migliora cielo che individua il cielo e va a migliorarmi nel contrasto nei colori la saturazione il cielo in modo specifico fa uso dell'AI quindi puoi anche vedere prima e dopo qual è l'intervento ma varia da immagine immagine vedi qui è stato applicato in questo modo però se io vado a prendere un'altra immagine prendiamo ad esempio questa e vado a sfruttare quel strumento su modifica migliora con AI attenzione a cosa succede aumento accento guarda come mi schiarisce le ombre mi sistema il cielo e diciamo che ha fatto un buon lavoro per essere un intervento così totalmente automatico fatto dall'AI dall'intelligenza artificiale ormai che ci sono ci tengo a farti vedere una funzionalità o meglio come lavora Luminar Neo che può piacere o meno ma funziona in questo modo qui ho applicato vedi delle modifiche mettiamo dei valori per capirci mettiamo 100 proprio dei valori massimi e migliora cielo lo mettiamo a 20 quindi abbiamo dei parametri che ricordiamo facilmente 100 e 20 ok è stato applicato cosa succede se io vado a vedere sulla scheda modifiche cliccando sulla scheda modifiche ovviamente mi trovo qui lo strumento l'intervento che ho fatto migliora con AI accento 100 migliora cielo 20 ma adesso attenzione a questo passaggio quando io torno su strumenti e ad esempio vado a cliccare su migliora con tu magari ti aspetti di trovare lo strumento con i parametri impostati a 100 e a 20 in realtà quando ci vai dentro trovi i parametri a zero perché? perché in sostanza Luminar Neo funziona in questo modo ogni volta che tu esci dallo storico o ogni volta che vai a cambiare strumento riparte da zero ma non significa che ti ha cancellato le impostazioni perché l'immagine rimane esattamente modificata già con un primo intervento di AI di miglioramento tuttavia parte con una nuova applicazione dello strumento tant'è che io qui posso applicare ad esempio vedi nuovamente migliora con accento AI quindi lo portiamo a 50 in questo caso e migliora cielo lo lasciamo a zero l'immagine è stata migliorata in questo modo andiamo sullo storico delle modifiche ed ecco quello che ti dicevo ti trovi due interventi con migliora con il primo quello con i parametri 100 e 20 e quando tu lo selezioni vedi l'immagine com'è in quel momento e poi c'è stato il secondo intervento dove ho applicato 50 e 0 posso nasconderlo per vedere cosa è successo torno in strumenti torno su migliora con AI e trovo tutto a zero adesso qui metto un 5 e 0 cambio strumento vado ad esempio su quello sottostante ma lo vediamo fra poco torno qui vedi che nuovamente è a zero praticamente ogni volta che cambi strumento lui va ad aggiungere lo strumento sugli interventi sullo storico però te lo azzera è un vantaggio un svantaggio una cosa negativa allora è una cosa che a me non piace tanto onestamente perché rischi di trovarti veramente un sacco di interventi fatti con lo stesso strumento e si fa fatica magari a capire qui 120 qui 50 0 qui 5 0 tuttavia è anche un vantaggio perché come puoi notare anche tu puoi sommare gli interventi con il medesimo strumento con parametri differenti e quindi ottenere dei risultati molto più particolari rispetto a quello che potevo fare solo con il singolo intervento è praticamente una somma di interventi può piacere o meno ma così funziona Luminar Neo bisogna capirne le potenzialità ovviamente anche degli aspetti negativi se voglio eliminare ormai che ci siamo nello storico qualche passaggio posso agire azzerando l'intervento una volta azzerato vedi che compare il simbolo del cestino clicco lì e viene eliminato quindi a zero e cestino in modo da ritornare magari al singolo intervento però vedi 100 eventi questo risultato io potrei voler dare un altro colpetto un altro miglioramento ecco che magari portandolo a 50 il risultato è ulteriormente migliore rispetto a quello iniziale così funziona e così dobbiamo conoscere l'utilizzo di Luminar Neo passiamo all'altro strumento ma prendo un'altra immagine che magari ci sta più a puntino per questo esempio andiamo a prendere questa qui perfetto e andiamo su modifica adesso cosa vado a fare io prima migliora con AI vado a migliorare l'immagine per schierire questa zona molto molto buona il cielo è completamente piatto io posso utilizzare questa funzionalità sui preferiti cielo AI che magari a qualcuno non piace ma c'è uno strumento sta a noi decidere se utilizzarlo o meno permette di sostituire il cielo in modo molto semplice qui abbiamo dei cieli suggeriti tipo clicco qui cosa farà Luminar Neo individua il cielo mi sostituisce il cielo con questo a disposizione ma ovviamente qui ho un elenco di cieli disponibili divisi per categorie vediamo Dramatic Sunset e potrai scegliere uno di questi vediamo se ce n'è qualcuno che rende un po' meglio guarda questo è stupendo anche se il sole non tramonta questa parte ma tramonta la destra però un osservatore non attento potrebbe sfuggire e direbbe guarda che bel tramonto qua ce ne sono altri vedi puoi creare delle atmosfere e come puoi anche magari notare cambia anche un po' la luminosità della scena infatti quando noi scegliamo un cielo qui abbiamo varie opzioni possiamo gestire la posizione del cielo sia orizzontale verticale possiamo specchiarlo se vogliamo cambiare punto possiamo rifinire la maschera perché ovviamente qui lui crea una maschera e possiamo vedi andare a fare delle piccole modifiche se lo porto a 4 noti qui vedi il bordo non l'ha unito molto bene portando lavori più alti si fonde molto bene riempi gli spazi sono tutti i slider che ti permettono di migliorare l'applicazione del cielo su reilluminazione scena questa qui è una cosa molto importante praticamente tu applichi un cielo però sempre tramite sfruttamento dell'AI dell'intelligenza artificiale Luminar andrà ad analizzare anche il resto dell'immagine e ti permette di migliorare la luminosità della scena in base appunto al cielo che ci hai applicato saturazione e luce modificata quindi puoi fare degli interventi per migliorare ulteriormente l'impatto estetico complessivo dell'immagine qui abbiamo il riflesso il riflesso torna buono se noi abbiamo dei laghi qui in mezzo e quindi permette anche di applicare il cielo riflesso sul lago magari vediamo dopo se ho una foto e riesco a farti vedere ad ogni modo va a replicare il cielo anche sul lago con una bella sfumatura in modo tale da rendere il tutto più realistico regolazione cielo anche qui possiamo creare degli sfoccati inserire della grana questo sempre per uniformare il cielo all'altra parte dell'immagine e questa qui è la funzionalità dell'aggiunta del cielo prima dopo una curiosità ultima prima di passare agli altri strumenti il fatto che qui all'interno dei cieli abbiamo una serie di cieli disponibili possiamo acquistarne altri abbiamo visto sugli extra sugli elementi aggiuntivi ma possiamo anche inserirne dei personalizzati con mostra cartella di cieli personalizzati tu ce l'avrai vuota nel mio caso si è aperta eccola qui la cartella specifica cieli custom ci sono quelli acquistati se ne hai custom qui è vuota nel tuo caso io sono andato ad inserire tutta una serie di cieli che ho scaricato da foto che ho trovato su unsplash il sito dove trovi delle foto utilizzabili in modo gratuito con licenza royalty free bene qui ho tutta una serie di cieli che io ho selezionato li ho messi qui dentro e poi andando su luminar neo selezionando dall'elenco personalizza anche se non è facile da capire su personalizza troverai l'elenco dei cieli che hai aggiunto tu quindi puoi scegliere uno dei cieli che hai selezionato in questo caso l'applicazione non è proprio ottimale infatti vedi come è stata messa male perché si vede anche il mare qui sul fondo e quindi io dovrò fare eventualmente delle rifiniture come posizione dell'orizzonte dovrò magari abbassarlo un pochino dovrò trovare la giusta posizione per adattarlo al contesto ma puoi inserire anche dei cieli personalizzati o dei cieli che hai fotografato nel medesimo contesto ma magari erano un orario differente e vuoi unirli insomma qui sta a te cosa vuoi fare anche qui potremmo operare con le maschere e possiamo vedere prima dopo e possiamo ovviamente reimpostare il tutto cliccando sul simbolino di reimposta strumento chiudo cielo andiamo sullo storico cosa troverò eccolo qui migliora con AI i due interventi e migliora cielo torniamo su strumenti andiamo a vedere su cielo cosa succede e qui si riparte anche in questo caso da zero quindi puoi inserire ulteriori cieli ma in questo caso te lo sconsiglio perché verrebbe fuori veramente un qualcosa di pessimo andiamo ora a vedere gli altri strumenti che abbiamo a disposizione vedi che appena sotto al gruppo preferiti c'è il gruppo estensioni che nella tua versione Illuminar Neo potrebbe essere completamente vuoto oppure non c'è proprio il raggruppamento estensioni perché qui all'interno vengono inserite appunto le estensioni ti avevo già spiegato all'inizio che le estensioni si acquistano andando su extra oppure fanno parte del tuo pacchetto dipende cosa hai acquistato e ci sono delle estensioni che si trovavano nella sezione catalogo come Fusion HDR Upscale Focus Stacking e Stitching Panorama ed altre che invece si trovano qui in questo caso abbiamo Senza Disturbi eccolo qui abbiamo Super Nitido eccolo qui che l'ho installato e Luce Magica eccolo qui che l'ho installato quindi sono estensioni cose che acquisti a parte l'unica cosa che puoi fare su queste estensioni e testo destro e aggiungerle eventualmente al raggruppamento predefiniti ad ogni modo vediamo cosa abbiamo a disposizione Senza Disturbi Super Nitido Luce Magica Senza Disturbi è abbastanza ovvio cosa fa va ad eliminare il rumore digitale ma attenzione ho preso questa immagine mettiamo al 200% dove ho fatto un editing un po' estremo ma l'ho fatto apposta per far venire fuori il rumore digitale e qui cosa mi permette di fare questo strumento andiamo a vedere ho tre pulsanti basso, media ed alta e praticamente sono tre interventi che fanno uso dell'AI Luminar Neo analizza l'immagine e mi applica una riduzione del rumore e vedi che già mi suggerisce mi dà un consiglio utilizza bassa per questa immagine lui ha già visto un'immagine secondo lui l'intervento che io dovrei applicare è basso prima di cliccare su basso anzi avviamo intanto l'analisi cliccando qui Luminar Neo comincia ad analizzare l'immagine se tu ti stai chiedendo ma allora per eliminare il rumore digitale con Luminar Neo devo acquistare un'estensione no perché se tu guardi tra le essenziali troverai appunto il limina grana è un intervento manuale lo gestisci tu con vari parametri lo vediamo più avanti però c'è comunque questa possibilità di acquistare l'estensione che adesso ha applicato un intervento di riduzione del rumore vediamo con l'occhiolino prima dopo è abbastanza evidente come ha eliminato il rumore ma dove sta la differenza tra l'estensione che fa uso dell'AI e quello manuale sostanzialmente la differenza sta nel fatto che qui stai più veloce perché il software analizza l'immagine e fa l'applicazione e la riduzione del rumore in modo molto azzeccato fatto bene dove serve sfruttando un'analisi tramite intelligenza artificiale AI e puoi scegliere tra bassa media ed alta e poi in ogni caso una volta selezionata anche quella bassa ad esempio giocare con lo slider del denoise per limitare magari l'intervento perché gli interventi di denoise di riduzione del rumore comunque vanno a far perdere un po' di dettaglio lo puoi notare magari ecco qui su questa zona rocciosa vai a perdere un po' di dettaglio e quindi puoi regolare tramite lo slider luminosità denoise dettagli nitidezza se far venire fuori un po' più di nitidezza un po' più di dettaglio puoi ridurre l'intervento insomma hai la possibilità di dosare un pochino meglio l'intervento stesso che ha fatto Luminar Neo mettiamo su alta ad esempio vedi che l'analisi è molto veloce perché l'ha già fatta prima ed è abbastanza evidente andiamo al 200% qual è la differenza eccola qui da bassa ad alta c'è una piccola differenza guarda prima dopo vedi che elimina il rumore ma ti fa perdere anche un po' di dettaglio qui sta a noi capire se su questa immagine vista in questa dimensione beh l'intervento di denoise è eccessivo allora così a colpo d'occhio posso dire che alta forse è eccessivo effettivamente io andrei ad applicare un intervento basso su questa immagine perché è sufficiente ad eliminare i rumori in eccesso diciamo lasciando comunque un po' di grana che rende l'immagine un po' più realistica ho fatto anche un video sul mio canale youtube non so se è già stato pubblicato dove parlo appunto anche di questi aspetti e questo è il quanto per lo strumento senza disturbi rimuovi disturbi troviamo poi super nitido cambio immagine e andiamo a prendere ad esempio questa immagine qui e vado ad ingrandire vado su modifica vado ad ingrandire un pochino questa zona l'immagine è già molto nitida ho fatto questa foto con una Leica Q che ha tantissimi megapixel una risoluzione molto molto elevata avevo chiuso bene il diaframma il dettaglio è molto buono tuttavia anche qui posso sfruttare questa estensione per migliorare il dettaglio e mi offre anche qui tre pulsanti bassa media ed alta ma ci sono delle opzioni posso dirgli se l'immagine è un'immagine dove c'è della sfocatura praticamente una perdita di nitidezza data dai movimenti magari del micromosso oppure se si tratta di una foto normalissima nel mio caso si tratta di una foto normale quindi sceglierò universale tuttavia se ho fatto una foto dove c'è la perdita di dettaglio data dal micromosso perché magari non stavo utilizzando il treppiede ho utilizzato dei tempi di scatto troppo lenti se non è eccessivo posso dirgli sfocatura movimento in questo modo l'analisi che farà Luminar Neo tramite l'AI sarà in modo specifico per valutare il micromosso nel mio caso come ti ho detto metto universale c'è anche la possibilità di attivare questa opzione miglioratore del viso per appunto dire a Luminar Neo che si tratta di una foto di tratto quindi individua il volto lui lo farà in modo veramente molto facile e applicherà un miglioramento del dettaglio considerando che si tratta di un viso quindi senza esagerare senza rovinare la pelle perché un dettaglio eccessivo sulla pelle potrebbe essere un fattore penalizzante nella foto stessa capito questo ho i miei tre pulsanti io scelgo ad esempio bassa qui non mi da suggerimenti ma clicco su bassa anche qui inizia l'analisi l'analisi sarà un pochino più lunga perché l'immagine è grande con tanta risoluzione si tratta di un'immagine con tanti particolari e quindi Luminar Neo deve fare un'analisi un po' più approfondita attendiamo bene Luminar Neo ha terminato guarda mi posiziono un po' qua in modo da vedere anche questa zona della montagna guarda le persone quanto piccole sono e ti fanno capire quanto è grande questa area questa zona andiamo a vedere prima o dopo prima dopo magari non lo so ancora una volta se tu lo noti a monitor a video io guardando con un bel monitor grande si nota l'intervento è tutto un intervento di micro contrasto che va a creare questo effetto collaterale dove l'immagine sembra più nitida all'occhio umano e quindi bene funziona bene ho vari passaggi media ed alta non vado a utilizzarla intanto più si aumenta questo valore più artefatti diciamo vengono fuori perché si esagera bisogna sempre utilizzare il giusto come si usa a dire sempre il miglioramento di dettaglio c'è e la domanda è sempre la stessa ma mi serve super nitido c'è una funzione già presente su Luminar Neo di default si esiste già infatti se non vuoi utilizzare l'estensione c'è sempre tra le essenziali la possibilità di lavorare con dettagli lo vedremo che ti permette di migliorare i dettagli appunto della nostra immagine poi abbiamo luce magica luce magica è una cosa un po' particolare è decisamente una invenzione un artefatto prendo quindi questa immagine che è perfetta per questo scopo vado su modifica e vado prima di tutto a migliorare un po' con la i questa immagine in modo da tirare fuori un po' di dettaglio nelle zone d'ombra e andiamo qui su luce magica a cosa serve luce magica serve per migliorare gli aspetti dei punti luce qui vedi che ho il sole che sta per tramontare si vedono leggermente i raggi ma io vorrei rendere questa cosa ancora più estrema molto più evidente molto più d'impatto e vado a sfruttare questo strumento che sfrutta anche qui l'AI cliccando su questo strumento mi si apre tutta una serie di preimpostazioni già pronte c'è questo valore però che è a zero e guarda quando io vado sopra qui all'immagine adesso posso solo spostarla ma se io vado ad aumentare questo valore lo porto ad esempio a 50 adesso quando vado sopra ho il cursore che è un puntino è un puntino di un pennello posso regolarne le dimensioni di questo pennello quello che faccio io è trovare una dimensione più o meno grande come il puntino ecco qui questo qui è il puntino un po' meno potrebbe andar bene e guarda cosa faccio clicco qui sul sole clicco lì lasciamo che Luminar Neo analizzi e vedi che mi ha creato questo punto luce io qui ci posso regolare l'intensità meno intensa più intensa andiamo a vedere l'immagine tengo premuto la barra spaziatrice in modo da avere la manina dello zoom riclicco per tornare alle dimensioni più ampie e posso vedere prima o dopo qual è la tipologia di intervento che ha fatto mi ha creato quel punto luce e qui ho tutta una serie di parametri ci posso regolare la trasparenza che è con l'effetto molto particolare di sfumatura la luminosità lui ovviamente parte con dei parametri di base io ci posso cambiare la luminosità del punto il numero di raggi 7 mettiamo più raggi scegliamo noi no eccessivi 4 vedi mettiamo 4 raggi e ci posso anche gestire la rotazione per trovare un punto più ideale abbiamo 8 raggi eccolo qui vedi vado ad applicare questa tipologia di intervento bagliore ampiezza raggio vediamo aumentiamo di più insomma puoi fare veramente tante cose tante modifiche si tratta ovviamente di un artefatto di una cosa creata ad hoc ma qui puoi fare anche un inserimento manuale quindi io ne ho scelto uno ma se fosse un altro tipo di immagine io potrei inserire vari punti all'interno dell'immagine e gestirli in modo autonomo per creare questi punti di luce ti faccio vedere ora cosa potresti fare con un'altra tipologia di immagini sfruttando magari l'immagine di automobili riprese di sera magari un po' incontroluce su una situazione urbana ed eccoci qui proiettati in un altro contesto dove io ho recuperato delle foto urban notturne con dei punti luce e quindi vediamo proprio come funziona sfruttando l'AI l'automatismo lo strumento estensione luce magica andiamo ad espandere questo strumento e guarda adesso cosa succede rispetto a prima dove ho dovuto fare l'intervento manualmente qui Luminar Neo sarà in grado di capire da solo che ci sono dei punti luce e applicherà quell'effetto in modo automatico attenzione aumento intensità lo porto a questo valore e vedi già che i punti luce sulle automobili è venuto fuori è comparso quell'effetto dove dopo io potrò cambiare il numero dei raggi potrò cambiare la rotazione l'ampiezza del raggio tutte le cose che abbiamo visto prima bagliore andiamo a cambiare immagine ad esempio torniamo qui prendiamo questa e questa qua ce ne sono tantissime andiamo su modifica luce magica intensità voilà vedi che è comparsa è comparso questo intervento questo effetto adesso ho riconosciuto veramente tanti 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 punti luce ovviamente io posso anche aggiungerne altri qui vedi magari questo faro io volevo inserirlo sono già in aggiungi come scheda e clicco lì e viene aggiunto un ulteriore punto luce questi li ho riconosciuti in automatico quelli qui i rettangolini gli altri li aggiungo io come mi pare piace facendo le regolazioni appunto anche delle dimensioni eccetera ovviamente le dimensioni vado ad incidere su tutto se voglio applicare un punto luce più piccolo devo prima regolare le dimensioni nel pennello porto dimensioni molto piccole dopo magari vado a cliccare sui punti dove voglio inserire il punto luce cosa interessante l'hai visto qui il punto luce bianco e questo qui è diventato un rosetta lui riconosce il colore della luce e quindi va ad applicare il punto luce anche in base al colore dove tu hai cliccato ad ogni modo questo è lo strumento luce magica ti permette di applicare degli effetti molto particolari anche divertenti all'interno di questa tipologia di immagini in modo specifico vediamo ora una carrellata sugli strumenti presenti nel gruppo essenziali il gruppo essenziali contiene per l'appunto degli strumenti di base che saranno disponibili anche nella versione quella base di Luminar Neo quindi senza dover acquistare delle estensioni ti trovi già tanti strumenti molto validi ci sono anche degli strumenti che già fanno uso dell'AI ad esempio struttura ma lo vediamo fra poco il primo che troviamo è sviluppo io sto gestendo un RAW quindi vedi che mi riporta sviluppo RAW che è lo stesso che troviamo all'interno di modifiche già predefinito sviluppo RAW perché appunto ha riconosciuto Luminar Neo che è un RAW se io prendo un file jpeg come questo e vado su modifica strumenti vedi che c'è sempre sviluppo ma non riporta la sigla RAW lo strumento però contiene gli stessi slider disponibili in entrambe le modalità ovviamente nella versione per RAW avrai la possibilità di avere un recupero migliore ad esempio delle ombre delle luci eccetera insomma stai lavorando in RAW sono cose che sappiamo andiamo su sviluppo RAW che puoi scegliere da qui oppure andando su modifiche e lavori direttamente da qui vedi è già pronto cosa possiamo fare io preferisco lavorare direttamente da qui perché stiamo seguendo la sequenza logica degli strumenti su sviluppo RAW ci chiede innanzitutto di dare un profilo alla fotocamera qui potresti avere dei valori differenti rispetto a quelli che ho io perché io sto utilizzando praticamente un file RAW della Leica Q3 che è un file DNG quindi magari riconosce anche dei profili esterni guarda come è bello quello adobe standard secondo me è migliore rispetto a quello di luminar default perché qui mi toglie un po' di dominante blu ma non so se è solo limitato al fatto che la Leica Q3 sfrutta i DNG quindi ha già diciamo un buon rapporto con adobe e tutto quello che ci va dietro qui abbiamo tutti gli strumenti di base soliti possiamo gestire l'esposizione abbiamo il contrasto intelligente questo è molto interessante perché a differenza dei contrasti normali diciamo questo funziona meglio funziona appunto in modo un po' più intelligente non so se lo spiegarti nello specifico come lavora l'algoritmo e ovviamente abbiamo la possibilità di smorzare le luci vedi qui il cielo e schiarire le ombre quindi tirar fuori i dettagli facciamo un vero e proprio sviluppo del RAW da questo punto di vista devo dirti che Luminar Neo non è per niente male nello sviluppo dei file RAW almeno per quelli della Leica Q funziona piuttosto bene ci sono altri software che invece non vanno tanto bene per quanto riguarda il RAW converter il RAW converter Luminar Neo beh mi piace funziona piuttosto bene ovviamente qui abbiamo sempre il nostro occhiolino per vedere prima o dopo dopo il gruppo luce abbiamo bianco e neri qui possiamo gestire i bianco e neri ma non intesi come foto in bianco e nero va a toccare le zone più chiare dell'immagine e più scure dell'immagine quindi i neri posso intensificarli ma solo i neri vedi guarda qui al centro fa fatica magari a fare l'intervento si concentra più appunto nelle zone più scure e i bianchi vedi come va a toccare in modo specifico guarda questa zona qui in basso non viene praticamente toccata guarda la luminosità delle nuvole come invece viene colpita quindi agisce in modo un po' più specifico sui neri e sui bianchi se tu fai delle modifiche vuoi reimpostare il singolo slider doppio clic e si riporta a zero andiamo sulle curve qui ci sarebbe da parlare un'eternità sulle curve come funzionano non è questo il caso comunque abbiamo questa funzionalità sia per quanto riguarda il livello generale RGB ma possiamo anche lavorare in modo singolo sui canali del rosso se ad esempio io voglio dare delle dominanti particolari come sto facendo ora un po' vintage diciamo vado a ripristinare questa curva di base ed ecco che vedi con un semplice intervento sulle curve prima dopo ora come gli ho dato questa colorazione peccato che non ci sia la possibilità di fare un prima dopo solo ad esempio per le curve quindi vedere l'intervento come era prima e dopo solo con l'intervento sulle curve ok andiamo avanti dopo le curve cosa abbiamo il colore ovvero il bilanciamento del bianco vado a ripristinare queste immagini altrimenti rischio di combinare troppe cose e non ci sta bene faccio così proprio un intervento di base base perché voglio farti vedere il bilanciamento del bianco è assolutamente normale possiamo scegliere dei predefiniti qui poteva essere luce del giorno attenzione vedi che mi da questa colorazione un po' tungsteno ciano beh ti dico non è colpa di Luminar Neo credo sia una colpa proprio del file perché con tutti i rock converter la Leica Q quando gli do i predefiniti mi sballa completamente specie su luce del giorno mi sballa completamente il colore probabilmente è un problema di informazioni che vengono inserite nel file della Leica Q probabilmente verrà aggiornato con un update del firmware non lo so ma è una cosa da poco conto perché in realtà o lascio quello come scattato che va benissimo e poi faccio eventualmente gli interventi manuali se voglio scaldare o rendere più fredda l'immagine ma sono cose anche qui che non c'è molto da parlare puoi regolare la temperatura la saturazione la vividezza dove in sostanza per dirla in modo semplice vividezza quando lo aumenti sembra saturare i colori quindi sembra fare la stessa cosa della saturazione ma vividezza satura prima i colori che sono un po' smorti e tende a non toccare i colori già intensi viceversa al contrario andando in negativo tende a smorzare i colori troppo intensi e non interviene molto sui colori quelli praticamente meno intensi ok andiamo avanti cosa abbiamo a disposizione qui il campionatore ovviamente questo qui andiamo a campionare per dire guarda questo qui deve essere bianco e quindi lui mi fa la regolazione di tutto lasciamo come scattato doppio clic per ripristinare tutti i valori di base colore cosa abbiamo nitidezza attenzione qui abbiamo nitidezza in questo punto e poi abbiamo anche dettagli più sotto ecco lavorano un po' assieme diciamo c'è un concetto di differenza tra nitidezza e dettagli dettagli va a toccare i micro dettagli micro particolari dell'immagine invece nitidezza lavora un po' più in generale che valori si vanno a dare qui qui ovviamente serve per aumentare la nitidezza nel caso in cui sia necessario questo tipo di intervento guarda aumenta però i valori che ti posso dire è che di base definizione lo regoli dopo prima si regola il raggio io consiglio un valore che va da tipo da 2 a 6 dipende anche dalla scala qui è 100 quindi darei un 2 3 4 e dopo di che lavori con lo slider definizione quindi questo raggio praticamente va ad amplificare quello che vai a fare con definizione parti con questi parametri maschere significa che dopo aver fatto questi interventi che possono essere molto invasivi come in questo caso puoi decidere di renderlo più visibile o meno visibile andando a smorzare un pochino quello che ha fatto lo strumento in precedenza praticamente c'è la definizione raggio che fanno una cosa e maschere un po' va a sistemare tutto quello che hai fatto alla fine comunque segui questi parametri che ti ho indicato di base lascerei il raggio su valori molto bassi e poi lavorerei di definizione per trovare il punto più adeguato allo stesso modo come abbiamo nitidezza e poi abbiamo dettagli più sotto qui abbiamo riduzione del rumore che ti permette di ridurre il rumore nella luminosità e nell'aspetto colore infatti il rumore sono cose che spiego nei corsi di fotografia è composto da due elementi ci può essere il rumore luminoso che è la grana quindi ad esempio qui io posso vedi eliminare la grana ed ecco che allora vedi qui lo porto a valore massimo capisci la differenza tra la riduzione del rumore questa qui di base su sviluppo nel file raw rispetto all'intervento con le estensioni quello che avevamo visto prima raw senza disturbi ti ricordi quanto più preciso era raw senza disturbi che fa uso dell'AI rispetto a questo che è manuale non significa che non puoi ottenere lo stesso risultato significa che devi stare molto più attento devi fare degli interventi manuali e magari lavorare anche con delle maschere con dei livelli se sarà possibile abbiamo la luminosità data dal rumore digitale che è questo qui luminoso che è quello che si vede la grana e poi c'è anche il rumore quello cromatico in questo caso non ho l'immagine non presenta del rumore cromatico forse qui perché generalmente si nota con ISO molto molto elevati ad ogni modo il rumore cromatico va ad eliminare degli artefatti magenta e verdi che di solito compaiono quando si aumenta troppo la sensibilità ISO aumento dettaglio è la stessa cosa della maschera su nitidezza praticamente dopo aver fatto tutti i nostri interventi come qui esagerando un pochino con la riduzione del rumore luminoso io posso dirgli ok no tirami fuori un po' di dettaglio comunque da quello che hai fatto prima quindi vedi vai ad abbassare va ad annullare quando lo porto a zero praticamente quello che ha fatto lo slider della riduzione il rumore luminosità un po' a risistemare quello che è stato fatto in precedenza vado a ripristinare tutto su ottica questa qui è una roba curiosa vedi che qui lo scatto presenta questi punti neri che sono la vignettatura attenzione non significa che ho l'ottica che fa schifo ma semplicemente perché il file RAW come gestito a Luminar Neo mi va a visualizzare il file grezzo senza nessun tipo di intervento nemmeno quello che viene definito dal produttore della fotocamera il produttore Leica non mi darebbe questo file mi direbbe attenzione guarda che questa ripresa andrebbe tagliata di un determinato punto per farti ancora capire la Leica Q ha un obiettivo da 28 mm questa inquadratura è maggiore di 28 mm perché poi è pensato già che il file RAW dovrebbe tagliare leggermente dei bordi e è una cosa che non succede solo in Leica succede con tutti i produttori te lo garantisco quindi potrà capitarti anche con una Sony con una Canon con una Nikon che quando li apri con Luminar Neo ti viene fuori questo bordino e pensi di avere un'ottica non buona in realtà semplicemente sta bypassando delle informazioni che vengono date dal produttore e infatti cliccando su correggi automaticamente la ripresa vengono praticamente lette le informazioni date dal produttore e mi va ad eliminare ecco lì gli elementi questa qui sarebbe l'inquadratura corretta questo qui è proprio il file come viene registrato in modo grezzo totalmente grezzo e abbiamo poi altre possibilità come gestire la distorsione quindi migliorare l'intervento rimozione delle vignettature punto intermedio della riduzione vignettatura se tu vai ad applicare un miglioramento della vignettatura puoi anche regolare il punto intermedio e qui correzione aberrazioni cromate the frame automatico sono tutti interventi che ti permettono di migliorare l'immagine dal punto di vista ottico correzione ottica direi che in questo caso ci starebbe anche bene trasforma questo qui gestisce la prospettiva quindi guarda in modo molto semplice vai a giocare con questi parametri per capire come funziona questo strumento abbiamo anche la possibilità di cliccare su questo pulsante in modo tale che sia il software a fare l'analisi corretta del tutto per appunto fare l'intervento sulla correzione della prospettiva strumento successivo eccolo qui abbiamo cancella lo strumento cancella è molto potente questa immagine torna proprio a puntino però devo reimpostare l'immagine perché dopo tutto quello che ho fatto ho combinato un po' di casini quindi vado su sviluppo e giusto vado a migliorare l'esposizione eccolo qua perché perché con lo strumento cancella io andrò ad eliminare degli elementi vado ad ingrandire come faccio ad ingrandire o esco dallo strumento e vado ad ingrandire delle zone oppure quando sono all'interno dello strumento devo utilizzare la barra spazzatrice sulla tastiera per fare gli ingrandimenti spostarmi oppure vado qui sotto e regolo l'ingrandimento barra spazzatrice mi sposto ed eccomi qui e ipotizziamo che io voglio eliminare queste due persone che stanno camminando ce ne sono tante ma ho scelto queste sfrutto lo strumento cancella è già posizionato su seleziona io devo solo regolare le dimensioni del pennello decido io scelgo questa dimensione e cosa faccio comincio a disegnare ho un vero e proprio pennello in mano guarda cosa faccio ho una spennellata ok ho selezionato gli elementi cosa devo fare adesso clicco su cancella cliccando su cancella lasciamo che Luminar faccia la sua magia ed eccolo lì va ad eliminarmi il soggetto ovviamente posso annullare l'operazione in questo modo deseleziona cosa serve in modo molto semplice guarda io faccio questa spennellata sono scivolato col mouse deseleziona vado a cancellare le parti che non mi servono per essere più preciso magari sul tipo di intervento cancella e va ad eliminarmi ancora una volta il soggetto abbiamo poi ripristina ripristina funziona sostanzialmente come cancella però devi dire tu dove io posso vedere con l'occhiolino prima era qui dopo ok se clicco ripristina mi ripristina tutto ma io potrei dire ok ripristina solo un punto quindi ho scelto ripristina devo prima spennellare andiamo su seleziona seleziono quest'area sto anche abbondante e gli dico guarda se qui avevo fatto delle modifiche ripristinale quindi clicco lì ripristina e Luminar Neo vedi mi ritira fuori il dettaglio che avevo prima cancellato solo in quel punto ci sono poi degli automatismi come rimozione oggetti linee elettriche o punti di polvere sono interventi che fa in automatismo Luminar Neo riconoscendo questi due elementi linee elettriche e i punti di polvere dati magari da un sensore sporco andiamo avanti con gli altri strumenti abbiamo struttura che si basa sull'AI cambio immagine quindi vado sul catalogo e prendiamo solo file raw le mie tre cime di lavaredo eccoci qui andiamo su modifica e andiamo su struttura AI cosa fa fa uso dell'AI ovviamente il metodo più semplice per capire il suo tipo di intervento è quello di muovere lo slider e ti fa capire un po' cosa fa va ad aumentare un po' i contrasti però schiarisce anche le zone un po' in ombra crea appunto questo effetto struttura va a migliorare i dettagli dell'immagine abbiamo un valore e poi abbiamo aumento del dettaglio che appunto un po' fa le stesse cose che troviamo con le funzioni di sviluppo eccolo qui nitidezza oppure quello che vedremo fra poco dettagli vedi che alcuni strumenti si ripetono un pochino perché si è vero abbiamo degli strumenti ma non è necessario utilizzarli tutti a volte magari ti basta lavorare solo su struttura per aumentare il dettaglio quel tanto che basta per rendere l'immagine buona come la vuoi tu non è sempre necessario ricorrere a tutti gli strumenti messi a disposizione questo è sicuramente una parte che mi piace di Luminar Neo ad ogni modo se tu vuoi avere delle informazioni sullo strumento vedi che qui c'è i tante volte e ti spiega il tool struttura ti consente di regolare il livello di dettaglio e chiarezza dell'immagine puoi utilizzare questo tool per rilevare una grande quantità di dettaglio o anche per ottenere un'immagine più fluida e con meno dettagli perché infatti anche andando in negativo si può ottenere l'effetto opposto vedi una dimensione del dettaglio in questa immagine non ci sta però l'aumento del valore in struttura e aumento dettaglio può essere magari un semplice intervento quindi unico per migliorare già l'immagine dal punto di vista del dettaglio da questo punto di vista reimposto e andiamo sullo strumento successivo colore anche qui abbiamo già visto saturazione rividezza in sviluppo del file raw o sviluppo normale ma qui si ripete questo qui è molto più specifico infatti ci mette sempre a disposizione la saturazione e rividezza di cui ti ho già parlato ma abbiamo anche rimuovi dominante cromatica questo intervento tende a rimuovere delle dominanti se lui riconosce una dominante se esageri non va bene però un pochino si ad esempio questa qui è un'immagine un po' fredda tutto sommato perché il bilanciamento del bianco o anche la situazione rimontagna è normale che magari le fotocamere regiscano in questo modo io posso dirgli guarda togli un po' di dominante e mi togli un po' di quella dominante azzurronio la vediamo prima dopo prima dopo non so se lo noti ma è quel poco che basta se vogliamo avere un intervento molto più preciso espandiamo HSL e qui veramente si apre un mondo possiamo lavorare sulla tonalità saturazione e luminanza che sono i tre elementi che compongono un colore una cosa che dico spesso tanti chiamano un colore semplicemente colore in realtà è un composto da tonalità saturazione e luminanza e qui tonalità puoi decidere di intensificare un po' più o meglio intensificare cambiare la tonalità dei rossi andando verso i magenta verso l'arancio verso i gialli verso i verdi li porto così ciano verso i blu blu viola tolgo un po' più verso il viola tolgo il magenta cambio il colore della magenta cambio tinta questo qui va ad incidere su tutta l'immagine vediamo solo con questo intervento di tonalità cosa cambia andando qui sull'occhiolino prima dopo un pochino si lo vedi qui su questa parte della montagna della cima vedi prima dopo come è cambiata la tonalità ovviamente posso agire anche sulla saturazione anche qui delle singole parti della nostra immagine e posso agire anche sulla luminanza dei singoli colori che sono stati preimpostati all'interno di Luminar Neo non vado ovviamente ad approfondire l'utilizzo perché questo dipende un po' dall'immagine che abbiamo davanti da cosa dobbiamo fare reimposto e andiamo avanti con l'istrumento successivo bianco e nero questo si questo si è dedicato esclusivamente bianco e nero tant'è che una volta aperto è disattivato perché devo convertire l'immagine in bianco e nero quindi clicco su converte in bianco e nero e questo qui mi aprirà la possibilità di agire su questi colori rosso giallo verde ciano blu magenta in cosa nella loro luminosità quindi questa è la luminosità praticamente stai gestendo la luminosità del colore guarda qui ti ricordi che questo versante della montagna vediamo prima era un po' giallognolo quindi ha dei rossi all'interno rossi e gialli guarda qui lo abbasso si riduce l'intensità luminosa se vado sui gialli ovviamente si nota anche qui l'intervento abbassando questi due valori io recupero in pratica del dettaglio in quelle zone appunto dove prima c'era del rosso andiamo a vedere se ho altri punti dove si può notare bene l'intervento sicuramente sul blu vediamo prima qui il cielo è decisamente blu quindi guarda qui cosa succederà quindi molto molto particolare posso intensificare il cielo ho anche dei verdi qui in fondo vediamo se riesco a vederli qui c'è anche il ciano ovviamente del cielo i verdi non si vedono tanto probabilmente vengono toccati infatti eccolo qui vengono toccati più dai gialli lo vedo su queste piane qui in fondo quindi qui gestiamo il bianco e nero andando su saturazione si accede a una funzionalità molto particolare che ho visto solo in Luminar Neo in sostanza qui ho trasformato la foto in bianco e nero però adesso io posso dare del colore tipo il rosso aumento e guarda che compare il rosso in questa zona i gialli compaiono i gialli il blu compare il cielo e a cosa torna buona per creare diciamo delle desaturazioni parziali o creare degli effetti un po' particolari sulle nostre immagini che potrebbe piacere insomma è uno strumento apre una possibilità in più starà a noi decidere cosa vogliamo fare vado a ripristinare bianco e nero adesso andiamo a vedere dettagli questa funzionalità che abbiamo già visto anche in sviluppo abbiamo visto con le estensioni vediamo cosa ci mette a disposizione dettagli qui all'interno lo strumento è molto più dettagliato delle funzionalità che abbiamo trovato ad esempio su sviluppo su sviluppo avevamo nitidezza che ti dava queste funzionalità qui su dettagli è molto più specifico qui possiamo lavorare sui piccoli dettagli medi e grandi e la definizione in generale quindi vado ad ingrandire questa zona qui questa immagine è composta da tanti elementi ci sono delle rocce quindi elementi molto grossolani dei particolari molto fini come questa superficie e quindi qui posso lavorare per aumentare il dettaglio magari dei particolari fini e di qui di piccoli dettagli quindi si limiterà l'intervento a migliorare queste zone che hanno appunto una superficie molto dettagliata se vado in queste zone un po' più ampie magari l'intervento è meno evidente infatti guarda qui qui torna proprio a puntino questo esempio guarda questa zona che è composta da tanti sassolini piccoli questi qui sono un po' più grossi come l'intervento di piccoli dettagli è molto più evidente in quella parte rispetto a questa zona poi c'è ovviamente medi colpisce di più le zone qui e meno quelle lì in fondo e grandi che ancora una volta vedi sì adesso colpisce anche lo sfondo ma solo su quelle fasce che sono un po' più grandi secondo Luminar Neo quindi cosa capiamo che bisogna stare un pochino attenti con il nostro tipo di intervento qui abbiamo definizione che fa un miglioramento diciamo complessivo della nostra scena ancora una volta info e qui troverai un breve riepilogo di come funziona e maggiori informazioni per avere un'informazione più dettagliata sull'intervento dettagli stesso dettagli mascheratura qui quando noi facciamo degli interventi possiamo ad esempio piccoli dettagli possiamo mi sposto qui posso attivare la protezione dei dettagli quindi degli interventi un po' come quelli che abbiamo visto prima su sviluppo andiamo su sviluppo dove quando si applicava la nitidezza c'erano poi le maschere la logica è esattamente la stessa intanto qui adesso vado a fare un reset riporto originale perché ho applicato tante di quelle modifiche che si stavano sovrapponendo tra loro torniamo in dettagli quindi abbiamo capito che abbiamo piccoli dettagli medi e grandi una volta che io applico un intervento sul dettaglio dell'immagine lasciamo che randerizzi io dopo posso lavorare con la mascheratura e qui sotto abbiamo anche la maschera di contrasto quindi dopo aver fatto degli interventi ad esempio sulla definizione viene attivata la maschera di contrasto che va in pratica a fare la stessa cosa mascherare gestire lo slider definizione insomma so che può comportare un po' di confusione o meglio di rendere un po' difficile la comprensione dello strumento ma ancora una volta sono strumenti che ti permettono di avere un controllo maggiore quindi quando noi andiamo a lavorare la nostra immagine quale strumento dobbiamo scegliere beh scegliamo quello con il quale ci troviamo meglio se ad esempio questa immagine è già abbastanza nitida io voglio migliorarla magari potrei dire ok lavoro solo con struttura perché aumento il valore aumento un po' il dettaglio e voilà io sono a posto il dettaglio della mia immagine va bene voglio un controllo ancora più approfondito vado in dettaglio magari sfrutto questo strumento che mi dà il controllo sui piccoli dettagli medi grandi posso lavorare sulla definizione sulla mascheratura insomma scelgo lo strumento in base a quello che devo fare non perché è lì allora devo utilizzarlo per forza lo stesso vale per grana quindi vado a prendere l'immagine che era quale era questa qui vado ad ingrandire una zona e vado anche a reimpostare l'immagine andando su modifica no lasciamo qui perché si vede comunque la grana non serve fare una reimpostazione ma la porto al 200% andiamo sull'immina grana adesso qui cosa ho a disposizione abbiamo sempre i due slider luminosità e colore perché la grana come ti avevo già accennato è di tipo grana sulla luminosità e sul sul cromatico sul colore quindi tendenzialmente fa la stessa cosa che avevamo visto in sviluppo quindi se noi andiamo su sviluppo eccolo qui troviamo riduzione rumore luminosità e colore e poi c'era questo slider aumento del dettaglio questo qui è un intervento generico diciamo qui su elimina grana ho sempre luminosità e colore però mi si attiva anche questa estensione aumento del dettaglio che mi dà un controllo un po' più preciso di quello che si trovava su sviluppo ma soprattutto a differenza di quello che si trovava su sviluppo qui posso poi utilizzare le maschere per applicarlo in modo specifico solo l'intervento di riduzione del rumore limina grana invece su sviluppo io si potevo fare l'intervento ma era generale su tutto il file ecco ancora una volta e a costo di ripeterlo ho gli strumenti in base a quello che devo fare andiamo a cambiare immagine prendiamo vediamo questa immagine qui e andiamo a vedere l'altro strumento paesaggio andiamo ad espandere questo paesaggio questo strumento paesaggio qui troviamo delle funzionalità che magari hai già visto in altri software correzione foschia vedi che qui c'è un po' di foschia ovviamente questo cosa fa tende ad eliminare la foschia dall'immagine modo molto semplice proviamo a cambiare immagine prendiamo questa questa qui ha della foschia andiamo su modifica paesaggio correzione foschia tende ad eliminare ovviamente miracoli non ne può fare ma tende ad eliminare lavorando col contrasto la foschia da prima a dopo vedi che c'è in queste zone un po' fuscate c'è un aumento del dettaglio c'è poi ora dorata che serve ad intensificare la colorazione tipica delle situazioni tipo queste dove sto fotografando un tramonto un'alba vado qui paesaggio e do ora dorata vedi come mi scalda la scena la rende più interessante sotto questo punto di vista è un intervento che va a colpire una determinata tipologia di tonalità e colori migliora fogliame è comodo vederlo forse su questa immagine diciamo sì su questa modifica qui c'è dal verde la modalità migliora fogliame mi va ad intensificare esclusivamente i verdi guarda come diventano più intensi oppure li smorza dipende quello che vuoi fare abbiamo anche impostazioni avanzate dove quando io vado ad aumentare il fogliame cambiare l'intensità del fogliame posso anche scegliere la tonalità portarlo più a un verde brillante primaverile o più verso un verde autunnale perché ci stiamo inoltrando verso l'autunno quindi con una combinazione di interventi ecco che io vado a ottimizzare i colori della mia immagine per concludere abbiamo vignetta che abbastanza ovvio quello che fa vedi mi va a creare la vignettatura o me la schiarisce in base alle mie necessità io ci posso regolare il valore quindi l'intensità le dimensioni più di stretta più ampia e ci posso anche scegliere il soggetto cliccando qui andando sopra l'immagine posso dirgli guarda questo è il soggetto principale cliccando lì vedi che la vignettatura si concentra qui e poi si estende ovviamente questa vignettatura non va bene come l'ho fatta ma serviva per farti capire che io posso decidere cosa voglio fare con la vignettatura dove la voglio concentrare dove dov'è l'elemento principale che deve essere visibile e tutto il resto può essere anche smorzato e poi ho impostazioni avanzate dove ovviamente posso gestirne la rotondità e appunto la durezza del bordo vedi così capisci anche la rotondità cosa fa qui la porto proprio al centro la rotondità lavora in questo modo e luce inferiore è la luminosità interna quindi facendo un breve riepilogo cambiamo foto prendiamo questa io potrei dire guarda l'elemento principale sono le tre cime quindi ok vado su vignetta applico un po' di vignettatura gli dico guarda così il soggetto è questo quindi concentrati su questo punto qui ho tutto quello che riguarda la rotondità e la sfumatura come voglio io però posso anche dirgli ok schiariscimi un pochino però la parte interna vedi che l'ha schiarita un pochino quindi questa è l'immagine iniziale questa è l'immagine finale qui ho esagerato ripeto ti sto facendo solo vedere come funzionano gli strumenti poi sarai tu a decidere come utilizzarli e come sempre ti ricordo che quando tu cambi strumento e ritorni sullo strumento vignettatura questo si sommerà all'intervento precedente quindi potrai applicare un'ulteriore vignettatura decidere in quale altro punto applicarla si sommeranno e su modifiche li troverai uno sopra l'altro e potrai anche eventualmente cancellare quello che non ti serve e qui abbiamo visto una carrellata di tutti gli strumenti essenziali adesso passiamo alla sezione creativa andiamo ora a vedere gli strumenti che troviamo nel gruppo creativo come puoi intuire dalla parola qui troverai degli strumenti che puntano più che altro a migliorare l'immagine dal punto di vista creativo certo ci saranno anche strumenti che ti migliorano l'estetica dell'immagine ma principalmente ci tengo a precisarlo ci saranno delle funzionalità che creano qualcosa di nuovo può piacere o meno ma ripeto sono strumenti non è necessario utilizzarli sono lì ed è meglio averli che non averli ad ogni modo iniziamo con il primo luce modificata ho preso questa immagine che è perfetta per lo scopo questa immagine è stata già modificata con migliora AI infatti vedi ho schiarito le zone un po' qui d'ombra in primo piano ad ogni modo vado su luce modificata e mi trovo tre slider luminosità da vicino da lontano profondità ed è abbastanza ovvio cosa fa luminosità da vicino aumento questo valore e vedi cosa succede aumenta la luminosità in questa zona si scurisce un pochino la zona più in alto se faccio il contrario ovviamente me la scurisce mi fa l'esatto opposto se lavoro con luminosità da lontano cosa farà mi schiarisce le zone più lontane oppure le scurisce cosa assolutamente normale profondità gestisce la fusione tra questi due interventi quindi aumento la luminosità da vicino tolgo la luminosità da lontano e qui posso giocare con la profondità la sfumatura attenzione non va utilizzato in modo così intenso ma ad esempio io potrei dire ok luminosità vicino schiarisci un pochino luminosità lontano riduci un pochino portala un po' più profondità più al centro apparentemente magari non è cambiato molto ma guarda prima dopo piccoli interventi che però in questo caso non è tanto creativo quanto un miglioramento dell'immagine tuttavia qui dopo abbiamo delle opzioni aggiuntive come posso cambiare il colore da vicino o da lontano adesso io faccio appositamente questo intervento estremo per farti capire rimozione all'one portiamo questo valore da vicino vedi cambio il colore la parte più vicina lo scaldo un pochino quella lontana posso anche qui cambiarci un po' il colore tra caldo e freddo a me non piace tanto qui c'è la rimozione all'one che praticamente tende a fondere meglio questi due interventi ma abbiamo visto come a parte rimozione all'one e queste impostazioni avanzate beh l'intervento da vicino e da lontano della luminosità può essere molto molto interessante per migliorare un pochino la nostra immagine vado a ripristinare l'immagine perché passiamo allo strumento successivo atmosfera qui cosa troviamo e qui si andiamo sulla creatività andiamo ad aggiungere degli elementi cambio foto prendiamo ad esempio questa potrebbe forse andar bene andiamo a vedere modifica e andiamo su atmosfera cosa scelgo modalità nebbia cosa ho a disposizione nebbia a strati foschia e un'altra foschia qui c'è un errore sicuramente nella traduzione o comunque nel nome degli strumenti nebbia valore a zero aumento e compare una nebbia qui ci posso regolare la profondità e la luminosità di questa nebbia vado a cambiare nebbia a strati andiamo a vedere cosa succede è applicata grossomodo al centro vedi che sfrutta l'AI questa funzionalità perché guarda quando aumento qui il valore noti come mi taglia praticamente quasi questa parte la applica soltanto qui sulla parte centrale delle montagne e questo succede perché l'AI riesce ad analizzare l'immagine e ritiene che questa sia la zona dove va applicata e anche qui posso giocare con la profondità e la luminosità quindi abbiamo la nebbia a strati la nebbia normale vediamo foschia qui è veramente intenso come intervento i due parametri profondità e luminosità ormai si conoscono e poi un'altra tipologia di foschia vediamo si cambia qui è una foschia sullo sfondo sulla parte più indietro e qui più sulla parte anteriore sostanzialmente è quella la differenza suggerirò di inserire il nome di modificare il nome avendo il contatto diretto con gli sviluppatori di luminar neo bene questa qui è la funzionalità è chiaro che questa è veramente una funzione creativa va ad aggiungere delle cose all'immagine che non ci sono inizialmente raggi solari per questa vado a prendere nuovamente l'immagine qui col bel tramonto del sole ottimo cosa permette di fare permette di intensificare i raggi solari guarda come funziona raggi solari questa era una funzionalità che esisteva ancora prima delle funzioni delle estensioni che avevamo visto come luce magica ed è più indicata proprio per questo scopo il primo step che faccio è aumentare il valore quando aumento il valore troverai un punto a caso vedi mi crea dei raggi solari visti così sembrano una cavolata ma in realtà clicca su posiziona il centro sole posso spostare il centro guarda cosa succede guardami avvicino qui al bordo della montagna guarda come sembra che stia tramontando dietro la montagna guarda i raggi come seguono i bordi della montagna hanno un senso come movimento è molto molto interessante come strumento e cosa faccio io lo porto qui dove il sole sta tramontando e ovviamente così è eccessivo quindi vabbè a parte regolare il valore mettiamo un valore 40 posso regolare un aspetto generale vedo vari parametri slider lunghezza dei raggi dal sole decido io penetrazione quanto devono seguire i bordi delle montagne penetrare all'interno della scena quello che ti facevo vedere andando qui sul bordo come segue i bordi della montagna andiamo sempre qui dopodiché si va su dei parametri un po' più avanzati impostazioni del disco solare quindi si concentrerà in modo specifico sul disco del sole che è qui al centro vediamo cosa succede andiamo a posizionare un po' il centro del sole in modo ottimale qui cosa faccio siamo in impostazione di disco solare raggio del sole vedi posso ridurlo o ampliarlo ok qui posso ridurlo un pochino raggio del sole bagliore praticamente del sole e ancora una volta anche qui ancora aspetti per quanto riguarda il bagliore del sole posso gestirli in modo ottimale ok vedi qui faccio tutti gli interventi che ritengo opportuni chiudiamo questo andiamo su impostazione dei raggi qui lavoriamo solo sui raggi qual è il numero dei raggi solari ne abbiamo 50 possiamo aumentarli ridurli dipende noi cosa vogliamo fare oppure randomizza vedi li posiziona in modo del tutto casuale all'interno della nostra scena se non ci va bene questa inclinazione vogliamo altre inclinazioni possibili e poi abbiamo la gestione del calore del colore di tutto quanto il colore o calore come vuoi chiamarlo del disco solare più caldo più neutro bianco e stessa cosa per i raggi solari più caldi o più neutri bianchi trovi il giusto compromesso ad ogni modo una volta applicato il raggio solare noi possiamo vedere prima o dopo cosa cambia togliamo appunto del centro del sole prima dopo ecco allora che noi siamo andati ad inserire qui magari vado a ridurre il valore era eccessivo così vedi con un piccolo intervento qui siamo proprio sulla creatività ai massimi livelli sono andato applicare dei raggi solari sulla mia immagine per migliorare appunto questo aspetto ovviamente si possono anche inventare quindi se prendiamo dell'immagine dove il sole in realtà non si vede tipo qui io potrei comunque inventarlo quindi raggi solari posiziona sole lo posiziono qui e magari vado ecco a creare anche al di fuori del fotogramma vedi piazzo qui ovviamente qui ho esagerato ma un pochino potrei applicarlo aspetto generale potrei fare tutti gli interventi che ritengo opportuni per cosa per creare appunto questo effetto raggi del sole che entrano da un lato e vanno a colpire la montagna particolare e anche divertente siamo sempre in ambito creativo cambio foto vado su questa e vediamo la funzionalità drammatico drammatico come puoi intuire cerca di dare un look drammatico all'immagine c'è solo il valore aumento ed ecco cosa succede è molto interessante tante volte abbiamo la necessità di dare un po' di drammaticità alla foto possiamo lavorare con questa funzionalità aumenta il valore possiamo gestire con dei parametri il contrasto locale per renderlo più contrastato meno contrastato ma comunque c'è questa funzionalità di luce un po' drammatica va un po' a desaturare i colori tant'è che dopo abbiamo anche luminosità e saturazione possiamo gestire la luminosità e la saturazione questo perché l'intervento comunque potrebbe rovinarti un pochino l'immagine quindi tu prendi un'immagine e vai ad applicare questa funzione drammatico potrebbe rovinarti un po' l'immagine renderla un po' troppo scura quindi tu puoi decidere di renderla un po' più luminosa o togliere della luminosità se è eccessiva aumentare la saturazione se l'ha tolta in modo eccessivo e questo è il suo risultato da prima a dopo vedi questo effetto un po' drammatico andiamo a ripristinare il tutto e andiamo a vedere la funzionalità aggiuntiva LUT le LUT sono utilizzando dei termini non corretti lo metto già sul tavolo sono una sorta di preset in sostanza sull'estetica della tua immagine quello che puoi fare relativamente poco puoi scegliere le LUT caricarne ripersonalizzate acquistarne andando appunto nelle funzionalità ecco qui di estensioni marketplace oppure scegli quelle che hanno a disposizione qui ce ne sono veramente tante guarda fanno una cosa molto semplice scegli la LUT è in pratica un look un'estetica l'immagine scegliamo questa ci va bene quello che possiamo fare è semplicemente regolare il valore cioè come deve impattare sull'immagine da un valore da 0 a 100 quindi decidi quanto e poi giocare sul contrasto e sulla saturazione di questo intervento molto molto basilare quindi tu scegli un'immagine questa non hai voglia di stare lì a creare l'estetica la color e tutto vai sulle LUT scegli una LUT vai tra quelle disponibili trovi quella che ti piace un po' di più vediamo creativo trovo questa qui mi piace seppia la applico vediamo prima dopo e mi basta semplicemente lavorare poi con il valore con il contrasto con la saturazione per decidere cosa voglio fare sulla mia immagine prima dopo ecco che in pochi secondi io ho dato un look particolare alla mia immagine tra l'altro se mi ricordo il look seppia posso anche scegliere un'altra immagine dalla serie andiamo a ripristinare questa immagine se avevo fatto altre modifiche no è originale quindi vado su LUT avevo scelto LUT creativo seppia eccolo qua e potrei ecco ancora una volta applicare un valore per ottenere lo stesso identico look che avevo nell'immagine precedente quindi queste due immagini questa e questa hanno sostanzialmente lo stesso look perché ho utilizzato la stessa LUT che avevo qui a disposizione su Luminar Neo torno sul catalogo per scegliere un'altra immagine nell'occasione ti faccio vedere come puoi anche reimpostare queste immagini che ho modificato mentre ti sto facendo vedere le funzionalità se vuoi ripristinare questa immagine da catalogo tasto destro aggiustamenti riporta originale vedi si può riportare ad originale se vado a selezionare tutte le immagini tasto destro posso su tutte riportarle all'originale con un semplice e unico clic ad ogni modo andiamo a vedere l'altro strumento scelgo questa immagine modifica e andiamo su tonificante questo strumento da informativa dice che il tool tonificante corregge la luminosità e il contrasto generale per un'immagine bilanciata si tratta di uno dei tool più importanti per ottenere la giusta armonia tonale in una foto vediamo un po' come funziona quindi tonificante qui cosa abbiamo a disposizione abbiamo a disposizione due slider che lavorano in modo universale che sono valore e bilanciamento dopodiché abbiamo due schede ombre e luci dove puoi fare degli interventi per quanto riguarda la saturazione e la tonalità detta in modo molto semplice qui tu puoi intervenire sulle ombre o sulle luci in modo specifico per gestirne la saturazione e tonalità di quella zona partiamo dalle ombre ombre quindi le zone più scure di questa immagine io posso aumentare la saturazione lo porto a 100 giusto per farti capire e cosa fa questo aumento di saturazione aumenta la saturazione in base alla tonalità che io scelgo quindi gli dico i blu i magenta i gialli i verdi scelgo io cosa ovviamente non va usata in questo modo io potrei voler dare una dominante diciamo un po' calda alle ombre potrei dire ok rimani qui sugli aranci aumenta un po' la saturazione e quindi cosa succede tutte le zone un po' più in ombra prenderanno questa tonalità vediamo prima dopo le vedi in modo molto chiaro posso fare la stessa cosa per le luci quindi andando sulle luci potrei dire ok sulle zone più chiare aumenta la saturazione e dai questa colorazione allora vedi che bisogna stare attenti innanzitutto a quello che si fa altrimenti viene fuori un disastro però compreso questa tipologia di interventi cosa serve valore bilanciamento valore ovviamente serve per decidere quanto intenso deve essere questa applicazione delle modifiche che ho fatto sulle ombre e sulle luci e fin qui non ci piove il bilanciamento invece permette di decidere quale di due parametri deve prevalere quindi le ombre o le luci per farvi capire prendiamo le ombre portiamo un valore molto alto 50 e lasciamo questa tonalità molto calda andiamo sulle luci mettiamo anche qui 50 e mettiamo una tonalità molto fredda eccola qui quindi ho gli opposti degli aranci e dei freddi con bilanciamento io potrò dire ok dai più spazio a uno o all'altro andando verso sinistra do più spazio alle ombre quindi prende l'impostazione delle ombre eccola qui andando all'altra parte da ovviamente più spazio alle luci le luci erano più fredde quindi puoi decidere quali dei due luci o ombre lo slider sta più in mezzo tra la scheda ombre e luci puoi decidere quali dei due deve prevalere all'interno dell'immagine molto semplice come funzionalità e può essere utile appunto per dare delle tonalità sulle zone d'ombra o delle zone di luce e vado a ripristinare il tutto per passare allo strumento successivo opaca che torna buona ancora questa immagine opaca è una funzionalità che io ho utilizzato tante volte su tante immagini in sostanza va a toccare le zone più scure e crea quell'effetto carta stampata per capirci allora se io vado a stampare questa foto probabilmente non riesco a avere dei neri intensi come li vedo qui su queste zone qui specie se vado ad aumentare il contrasto quindi vado su preferiti migliora con AI vado magari ecco ad aumentare un po' il tutto per avere dei contrasti molto forti io voglio emulare l'effetto carta stampata vado sul gruppo di strumenti creativi eccola qui sceglierei opaca e su opaca aumento il valore guarda cosa succede non lo so se lo noti ma guarda le zone più scure dell'immagine come sembrano un po' opache sembra appunto l'effetto della carta di avere una foto stampata su carta stessa cosa per quanto riguarda le luci quindi va a crearmi questo effetto opaco molto bello anche effetto diciamo monitor opachi quelli non lucidi e a me piace onestamente in molte foto potrei applicarla dopodiché il valore che decide quanto intenso deve essere questo intervento ti permette anche di avere degli slider ulteriori per migliorare l'aspetto estetico poi lavorare sulla dissolvenza per renderlo meno impattante rispetto a come era all'inizio vedi così è molto contrastato comunque qui lo sfuma molto di più qui appunto abbiamo anche la gestione del contrasto nonostante sia opaco puoi comunque lavorare sul contrasto per renderlo più incisivo o meno incisivo e abbiamo anche questo slider intensità che va a gestire i colori perché un effetto collaterale dell'aumento del contrasto è anche un aumento della saturazione quindi visto che questi interventi vanno un po' toccare anche l'estetica dei colori qui dopo puoi decidere se intervenire sulla saturazione o meno qui andando sotto si apre ulteriormente un'altra serie di slider che mi permette di dare una dominante alle zone opache quindi sulle zone quelle più scure posso decidere di dare un rage di tonalità colore scelgo la tonalità e vado a gestirci la saturazione vedi qui con tutta questa serie di interventi come sono passato da questa immagine a questa sembra quasi una loot quindi appunto un intervento già pronto ti ricordo che se tu vai a creare un'estetica che ti piace qui sotto azioni e la salvi come preimpostazione quindi ti salvi questa serie di settaggi in modo che siano sempre a tua disposizione per quando vorrai applicarli su un'altra immagine continuo con lo strumento successivo intanto reimposto questa immagine perché è molto particolare e prendo questa foto andiamo su modifica creativi e qui abbiamo neon e bagliore qui siamo alla creatività ai massimi livelli perché andando qui guarda non ti spiego tanto come funzionano tutti gli slider ti faccio vedere come funziona sono in modalità disegna quindi ho questo strumento disegna vado qui e disegno i profili seguo i profili lo vedo lì guarda con calma faccio tutto il mio bel profilo delle tre cime di lavaredo abbi pazienza ok ho finito mollo il mouse ed ecco cosa succede wow un effetto neo beh qui ovviamente stiamo ridendo un pochino perché effettivamente fa un po' ridere vedere uno strumento del genere su un software di editing fotografico qui siamo proprio sulla creazione artistica per creare delle immagini da mettere sui social network eccetera ad ogni modo abbiamo questo effetto c'è e possiamo regolare alcuni parametri gestisceli tu prova a giocare col valore e qui abbiamo molti aspetti dell'effetto neon della luminosità atmosfera vedi ci sono tante cose che possiamo fare c'è anche la scheda bagliore dove possiamo creare un bagliore all'interno se noi selezioniamo facciamo una selezione di un'area qui tramite l'intelligenza artificiale anche se non viene riportato come strumento che sfrutta l'intelligenza artificiale viene creato un bagliore all'interno della zona che noi abbiamo selezionato quindi vedi proprio questo effetto un po' più luminoso attorno vicino a queste zone abbiamo un sacco di impostazioni perfezione oggetto possiamo ecco qui fare delle modifiche sull'immagine ma lasciamo stare non mi piace molto approfondire questa tipologia di strumento perché non riesco un po' non riesco proprio a capirlo nell'ambito di un software come Luminar Neo ma c'è ed è qui a disposizione ok chiuso Neo in bagliore lasciamolo lì andiamo a vedere cosa c'è dopo abbiamo mistico e cambio immagine perché per il mistico forse probabilmente questa immagine torna buona vado ad applicare un po' di migliora con AI giusto per tirare fuori un po' di luminosità alla scena e andiamo appunto su mistico clicchiamo su mistico e vediamo cosa abbiamo qui a disposizione abbiamo il valore e cosa si fa in questo caso la cosa più logica è prendere valore e portarlo al valore massimo per capire cosa succede vedi che in sostanza crea un effetto simile a effetto Orton diciamo crea sfumature sembra una sfocatura ma in realtà non lo è e qui abbiamo la possibilità di gestire la luminosità delle ombre e la levigatezza se lo vogliamo più vedi impattante o meno impattante decidiamo noi quanto deve essere sfumato lo vedi qui sui bordi della montagna è portato a valore minimo si nota un po' di più portato a valore massimo si sfuma un pochino ed è questo effetto può piacere o meno ma effettivamente viene utilizzato in tanti contesti per appunto creare questa atmosfera un po' particolare abbiamo colore qui sotto dove abbiamo il controllo appunto della saturazione e la dominante perché comunque questi interventi ci stanno bene anche come inserimento di una dominante colorata all'interno vado a ripristinare questo strumento per farti vedere il successivo infatti abbiamo mistico ma c'è poi bagliore bagliore è molto simile al precedente infatti permette di creare degli effetti tipo effetto orton che abbiamo visto prima ma è molto più avanzato perché ti metti a disposizione varie tipologie di effetto c'è il focus delicato bagliore effetto orton il vero e proprio io prima l'ho chiamato orton ma non sarebbe proprio corretto perché magari non hanno dei nomi più specifici ad ogni modo anche qui abbiamo lo slider valore portiamo al valore massimo e cerchiamo di capire cosa succede focus delicato sembra molto quello mistico che abbiamo visto prima bagliore è un'altra tipologia vediamo prima o dopo vedi colpisce prevalentemente le zone luminose quindi magari se noi andiamo a prendere questa tipologia d'immagine e vogliamo rendere più bello il tramonto possiamo utilizzare per l'appunto bagliore con la modalità eccolo qui bagliore appunto e andiamo ad aumentare questo valore molto molto carino abbiamo delle opzioni qui sotto dove possiamo gestire appunto la delicatezza la luminosità il contrasto il calore appunto dare una luminosità differente dal punto di vista del colore vediamo prima dopo vedi va a migliorare in questo caso il tramonto andiamo ancora qui sotto abbiamo l'effetto orton questo è proprio l'effetto orton applicato in modo un po' più serio andiamo a riselezionare questa immagine e andiamo su modifica bagliore e scegliamo effetto orton eccolo qua e andiamo ad aumentare questo valore eccolo qui l'effetto orton anche qui possiamo lavorare con delicatezza luminosità contrasto calore esattamente come le altre modalità e per concludere leggero effetto orton praticamente è un'altra applicazione un po' più leggera del precedente questa qui non mi piace però preferisco di gran lunga effetto orton magari dal valore minimo aumentato un po' il valore intorno a 50 e abbiamo appunto questi effetti che vanno a migliorare ripeto stiamo su strumenti creativi vanno a migliorare un po' l'immagine andiamo a ripristinare questa immagine altrimenti le modifiche si sommano scegliamo un'altra immagine prendiamo questa andiamo a vedere lo strumento successivo blur blur è abbastanza semplice anche questo ti permette di gestire la sfocatura però abbiamo la sfocatura gaussiana abbiamo la sfocatura movimento vedi movimento e a questo punto possiamo anche scegliere l'angolazione abbiamo il ritorto quando tu scegli la modalità ritorto guarda da movimento a ritorto si attiva anche posiziona centro sfocatura perché cosa fa ritorto guarda l'aumento a valore massimo angolazione regoli quanto deve ruotare però posiziona centro rotazione scegli il punto di rotazione qui diciamo che vista in questo modo potrebbe non aver senso o appunto se vuoi creare un qualcosa di particolare ovviamente sarebbe il caso magari di lavorare con le maschere cambiamo immagine perché voglio farti vedere una cosa molto particolare prendo questa immagine e ancora una volta vado su migliora con AI e ci vado a migliorare un po' l'estetica della stessa applicando due volte Ascent AI per avere una bella zona luminosa e vado a prendere l'effetto lo strumento blur abbiamo visto prima appunto eravamo rimasti a ritorto dove io do un valore e l'angolazione e con il punto decido una rotazione da fare vediamo anche pur lavorando con valori minimi va ad incidere su tutta l'immagine dipende un po' da cosa vogliamo fare ma è molto molto artistica ma non mi interessa questo aspetto ho preso questa immagine per farti vedere tilt shift che è bellissimo va ad emulare un effetto che si può ottenere con delle ottiche decentrabili guarda cosa fa tilt shift qui ho la posizione della sfocatura aumentiamo il valore e apparentemente uno potrebbe dire vabbè fa una sfocatura in alto in basso effettivamente qui ci posso regolare il punto di fusione ma questo effetto tilt shift se tu giochi in questo modo lo porti qua lo inclino un pochino vado avanti un po' con un paio di modifiche vediamo più stretto così bene adesso se tu guardi l'immagine sembra quasi un diorama cosa è diorama in sostanza sono quelle miniature quelle creazioni il presepe per capirci vai a fare delle miniature di un paesaggio con gli elementi e appunto l'utilizzo di questo effetto tilt shift con elementi umani all'interno spesso ti dà come effetto finale un impatto che sembra appunto una miniatura sembra una miniatura sembra che tu sia lì con una lente molto macro che sta inquadrando dei particolari su qualcosa di creato ad hoc e ti dà questo risultato se poi ci vai ad aggiungere magari degli interventi sul contrasto quindi magari vediamo sulle estensioni sulle essenziali su sviluppo vado a dare un po' di contrasto intelligente magari questo si amplifica ancora di più questo effetto sembrano quasi delle macchinine giocattolo queste qui in basso viste in questo modo ed è semplicemente una foto però effetto tilt shift questa è la funzionalità che abbiamo visto su effetto blur ottimo non ci resta che vedere l'ultima grana della pellicola che è abbastanza ovvia vado a prendere questa immagine modifica e andiamo su creative grana della pellicola cosa faccio valore aumento il valore e viene applicata una grana sull'immagine e qui sotto ci posso regolare le dimensioni della grana e quanto rubida deve essere la scena e serve appunto per magari dare un po' di spessore alla foto nel senso la foto normale così è troppo artificiosa troppo troppo pulita magari ecco così questo è il termine corretto specialmente magari dopo aver fatto tanti interventi bene voglio dare un po' di spessore all'immagine aumento il valore della grana gli do un po' di grana ed ecco che sembra una foto più vera rispetto a prima prima magari sembrava più una cosa troppo perfetta e adesso magari è più bellina inserendo della grana che non è la stessa grana quella creata con l'aumento dell'iso ma è una grana che va a simulare la grana appunto della pellicola e questa è la panoramica su tutti gli strumenti creativi che abbiamo qui a disposizione e come potresti sfruttarli adesso è arrivato il momento di vedere gli strumenti messi a disposizione per la gestione dei ritratti ritratti intesi come primo piano come in questo caso ma ritratto inteso anche come figura interna di una persona quindi adesso andremo a vedere cosa ci mette a disposizione Luminar Neo andiamo quindi su modifica e andiamo nel gruppo ritratto il primo degli strumenti che troviamo è punti luce d'atelier io ho chiesto di cambiare il nome perché è poco intuitivo ad ogni modo questo strumento se ci vai all'interno e passi sopra l'immagine con il mouse vedi che compare questo puntino per farla breve questo strumento permette di creare dei punti luce artificiali che non esistono ad esempio metto qui questo puntino e sarebbe come a dire guarda che qui ci sarà una fonte di luce che illumina il soggetto quindi cosa facciamo vado qui dove c'è valore e aumento il valore ecco cosa succede vedi che viene illuminato sulla parte destra dell'immagine guardandola o alla sinistra del ragazzo per capirci e puoi creare più punti luce ma iniziamo con questo singolo aumento un pochino giusto per far vedere vado qui e posso spostare il punto luce quindi puoi vedere anche quale sarà l'effetto vedi che gioca anche con la superficie della camicia sembra proprio che segua le caratteristiche della camicia è molto potente come strumento dall'alto più in basso scelgo dove piazzarlo mettiamo qui a lato e va bene regoliamo il valore dopo possiamo regolare la tonalità con relativa saturazione per creare delle colorazioni differenti se ci interessa quindi la tonalità non ha nessun impatto fino a quando io non cambio la saturazione ovviamente abbiamo la profondità la profondità ti permette di essere più diciamo contrastato come luce una luce più forte o più soft come profondità è molto più leggera e quindi posso gestirla magari meglio per quanto riguarda la luminosità la luce da dove arriva ad ogni modo ho pensato qui la luce vediamo prima dopo ho creato un punto luce posso creare più punti luce cliccando qui un più ma lo vediamo fra poco prima voglio farti vedere personalizzazione della luce attivando questa funzionalità già vedi cosa è successo guarda questo effetto tipo persiana qui a lato che fa passare la luce guarda prima dopo infatti questa opzione personalizzazione della luce mi apre la possibilità innanzitutto di avere una visione un po' tridimensionale quindi vedi spostarmi qui il punto luce è sempre fermo lì al suo posto ma posso cambiare come le linee della luce vanno a colpire il soggetto prima cosa interessante posso regolarne le dimensioni posso cambiare la fantasia quindi a pua ad esempio a punti o a strisce o anche nessuna ma posso anche cambiare la struttura quindi scegliere una struttura differente ad esempio vediamo qui dovrebbero essere ombre di alberi se non sbaglio e quindi con questa modalità cambia un po' la tipologia di struttura che viene applicata sul ragazzo e quindi andando a vedere qui ho l'immagine prima o dopo rimangono qui degli strumenti degli aggiustamenti principali che sono un po' universali colpiscono tutti i punti luce che sono la luminosità della scena quindi posso abbassare la luminosità per rendere più visibile quello che fa il punto luce posso cambiarne la levigatezza per migliorare ulteriormente l'intervento se è più morbido eccetera e il contrasto luce ancora una volta va a gestire la luminosità generale della mia scena ecco allora che l'immagine da così a così guarda come l'ho migliorata è come avere il controllo praticamente della luce in fase di post produzione come fossimo lì però a cambiare i punti luce eccetera ti dicevo che si possono aggiungere anche altri punti luce quindi clicco sul più viene aggiunto nuovo punto luce è qui e io lo sposto dove voglio e si riparte posso creare una illuminazione in questo punto per appunto cambiare altre caratteristiche dell'immagine o portarla qui sotto per illuminare più il braccio eccetera decido io come gestire questa cosa se un punto luce non mi va bene lo seleziono tasto destro o lo nascondo o lo rimuovo e vado ad eliminarlo praticamente dall'elenco e quindi vediamo l'immagine prima dopo vedi come è stata migliorata questo è il primo strumento che abbiamo visto poi c'è il ritratto praticamente l'ho sfocato su un ritratto vado a prendere un'immagine qui non c'è nessuna interessante perché hanno tutte già lo sfondo sfocato tranne questa questa un po' meno quindi facciamo una cosa del genere andiamo in modifica andiamo in ritaglia andiamo a fare un ritaglio vediamo arbitrario faccio un ritaglio io e mi posiziono qui anzi formato quadrato quindi proprio quadrato quadrato vado qui e ipotizziamo che questo qui sia una specie di ritratto quindi andiamo a prendere lo strumento ritratto bocche per creare lo sfoccato in modo artificiale apro lo strumento e vado a lavorare con il valore guarda cosa faccio lo porto a 100 ed ecco che si crea la sfocatura sullo sfondo Luminar Neo in automatico ha individuato il soggetto infatti quando vado sopra con il mouse viene evidenziato con la maschera e mi ha sfoccato lo sfondo ovviamente io l'ho portato al valore massimo in realtà magari bisogna lavorare con dei valori un po' più bassi giusto per sfocare un pochino vediamo prima dopo ecco che ho staccato un po' il soggetto però portandolo al massimo beh è evidente che ha fatto degli errori tipo qui sulla mano vedi è stata completamente persa la sua mano destra quindi ho degli strumenti che mi permettono di aiutare il software anche sui capelli qui in questa parte sopra la spalla vedi che c'è un buco mancano i capelli e come si può correggere? si può correggere l'intervento con un pennello scegliendo una di queste tre schede focus significa che noi diciamo al software guarda che queste aree determinate dovevano essere a fuoco e come si fa? si regola questo pennello nelle dimensioni nella sfumatura e nella forza che sarebbe appunto l'intensità dell'intervento ed ipotizziamo che io voglia rendere la mano a fuoco quindi cosa farei? andrei a utilizzare un pennello un po' più piccolo magari vado anche ad ingrandire quella zona della mano eccola qui regolo la sfumatura va bene la sfumatura al massimo e forza mettiamo una forza intermedia un valore pari a 70 circa e quindi io vado qui a spennellare vedi che qui compare tipo una maschera e ovviamente cosa succede quando io lascerò vedi che viene aumentata la nitidezza di questa zona andiamo a mettere il valore forza al massimo e ecco che allora magari è più evidente quello che sta facendo il software anche se lo sto facendo appositamente male vedi che mi ha messo a fuoco tutta la mano ovviamente io dopo potrò lavorare per sfocare le parti invece che sono state cancellate quindi vado su sfoca il pennello sempre con l'impostazione che io darò farà esattamente il contrario mi va a sfocare nuovamente le aree che io gli ho mascherato ovviamente qui dobbiamo lavorare noi e non far caso come sto facendo il lavoro perché lo sto facendo velocemente utilizzando direttamente il mouse quindi il risultato non sarà mai ottimale certo che così non va comunque bene anche perché ho il valore a 100 solitamente si utilizzano dei valori un po' più bassi l'intervento deve essere comunque naturale vediamo prima dopo ci potrebbe stare magari ecco mettiamo un 30 come valore prima dopo e qui la mano continua a rimanere in naturale quindi potrei decidere di fare tutta quest'area leggermente a fuoco quindi andrei su focus regolerei le dimensioni del pennello molto più ampie qui lascerei una bella sfumatura e abbasserei la forza intorno a 60 per cosa fare degli interventi qua e vediamo come reagisce il software ecco lì direi che ci sta piuttosto bene vedi io ho praticamente creato una sfumatura dello sfocato che colpisce più il dietro la parte anteriore qui gli ho detto guarda non applicarlo qui sulla parte anteriore perché è comunque una parte vicina ed ecco che adesso sì è molto più naturale nonostante un occhio attento magari nota che qualcosa non va metto a posto la spalla riducendo il pennello e magari ecco sì do dei passaggi qua vediamo se riesco a recuperare un po' di dettaglio sì sì decisamente qui dove c'erano i cappelli adesso è molto molto meglio ecco che ho creato una sfocatura totalmente diciamo inventata qui sotto su sfondo abbiamo una serie di parametri che vanno a colpire appunto la luminosità dello sfondo il bagliore delle luci posso darci una dominante più fredda più calda posso correggere la profondità vedi la lontano la vicino quindi posso anche lavorare in questo modo per creare una fascia di sfumatura in modo che il tratto non sia netto riconosce un po' le distanze diciamo la profondità di campo e correzione bordi lavora appunto sulla fusione guarda qui i capelli in alto sono riusciti malissimo ovviamente valore zero se aumento tenderà ad essere più netto nel passaggio tra una zona che lui ritiene un ritratto la persona e lo sfondo ad ogni modo qui è uno strumento piuttosto potente per gestire questi aspetti adesso andiamo sulla gestione del viso per il viso io vado a prendere questa immagine e andiamo un po' a vedere un po' nel dettaglio si vede è un'immagine con dei difetti ma cosa fa questa funzionalità viso non va confusa con pelle dopo ci sarà pelle che va a levigare dalla pelle ma qui abbiamo il viso sul viso si intende tutta una serie di interventi per migliorare proprio il volto il viso si può giocare con l'illuminazione ecco allora che viene illuminato il viso se c'è questa necessità e c'è la possibilità di assottigliare il viso perché tante volte un viso più snello e più carino da vedere quindi prima dopo ho corretto leggermente il viso fa uso dell'AI quindi analizza bene l'immagine prima di fare questi interventi dopodiché c'è una cosa molto bella guarda qui gli occhi bene andiamo a cambiare di che colore voglio gli occhi di questa persona li mettiamo blu ecco qui che ti trasforma gli occhi di questa persona da marroni a blu e dopo hai tutta una serie di opzioni il bagliore dell'iride faccio i passaggi 0-100 per farti capire ingrandisci gli occhi vediamo nell'immagine più complessiva andiamo ad ingrandire gli occhi guarda ovvio che così non va bene tuttavia possiamo comunque dare un colpetto se abbiamo delle persone che hanno degli occhi piuttosto piccoli possiamo ingrandirli o possiamo lavorare anche con le maschere perché questo strumento accetta le maschere per ingrandire magari solo uno dei due occhi nel caso in cui non siano simmetrici quindi possiamo gestire questa cosa andiamo ad ingrandire ancora perché c'è sbiancamento degli occhi dove va a colpire la parte quella bianca dell'occhio quindi andiamo ad aumentare un pochino migliora l'occhio in generale vedi che va a dare un po' di luminosità all'occhio chiarezza rimozione occhi rossi se abbiamo il ritorno del flash che ci dai gli occhi rossi in questo caso non c'è non comporta nessun cambiamento rimuovi occhiaie se ci sono degli occhiaie eccole qui vedi tende a schierire vediamo un po' l'immagine dal punto di vista complessivo prima dopo vedi un po' si va a togliere quel leggero senso di occhiaie e abbiamo migliora il sopracciglio cosa fa si va a scurirlo un pochino andiamo avanti bocca abbiamo anche degli interventi sulla bocca saturazione delle labbra ok può essere utile perché tante volte durante il processo di sviluppo si tende a perdere la saturazione sulle labbra si può cambiare il rossore delle labbra ovviamente così no sto trasformando quest'uomo in un'altra cosa oscuramento delle labbra può togliere un po' di luminosità le labbra e sbiancamento dei denti vediamo se ho una foto con dei denti visibili sì potrebbe essere questa vediamo ecco non sono perfettamente bianchi vediamo come reagisce viso andiamo qui sotto sbiancamento dei denti ed ecco che riesce ad individuare i denti e fare un po' una sbiancatura qui rossore delle labbra solito discorso oscuramento delle labbra saturazione delle labbra possiamo gestire tante tante belle cose ok torno qui e torno nuovamente a prendere in mano questa immagine che andiamo a vedere come era prima e dopo prima dopo vedi tutta una serie di modifiche che incredibile ha lavorato molto bene per quanto riguarda il ritratto in generale perché voglio andare a vedere l'altro strumento pelle pelle ovviamente lavora in modo specifico sulla pelle i suoi difetti abbiamo tre slider un'opzione rimuovi i difetti della pelle cliccando lì andrà il software in base al valore che noi andiamo a dare a rimuovere i difetti della pelle ma ad ogni modo andiamo qui aumento questo valore vedi che la pelle si leviga un pochino attivo rimozione dei difetti e se ci sono dei difetti il luminar mio andrà ad eliminarli non ne ha individuati c'è la rimozione della luminosità possiamo togliere un po' di luminosità sul volto perché a volte magari è un indice un po' come di essere sudati unti sul volto e quindi questo va a togliere quell'aspetto proviamo a cambiare immagine per vedere magari qui vediamo se sfruttando la modalità pelle riusciamo a vedere qualcosa di più tipo valore si vedeva a levigare un pochino proviamo a cliccare su rimuovi difetti vediamo se si nota qualcosa prima dopo sono interventi talmente minimi che fa luminar neo che quasi sono impercettibili e l'emozione luminosità ovviamente abbiamo già detto è sempre quel contesto di unto magari che troviamo sulla pelle ma adesso è arrivato il momento di vedere lo strumento corpo e vado a riprendermi questo ragazzo qui perché è uno strumento anche questo molto potente abbiamo visto come su viso puoi assottigliare il viso l'abbiamo visto eccolo qui vedi come assottiglia un po' il viso di questo ragazzo l'abbiamo visto prima con l'altro ma abbiamo adesso anche la possibilità di lavorare sul corpo quindi andando sul corpo abbiamo la forma e guarda cosa facciamo forma magra o più obesa diciamo ovviamente qui sto esagerando però partendo dal presupposto che questo è il valore zero io posso stringere un pochino quindi l'ho gli ho tolto un pochino di diciamo di una misura nel vestito e posso anche eventualmente per chi ha la pancetta posso anche ridurre un pochino la pancetta per dare una sembianza di addominali un po' più spessi vediamo prima dopo prima dopo ovviamente qui c'è anche il viso proviamo con un'altra immagine potrebbe essere questa qui per carità questa persona già sta bene di suo però si potrebbe migliorare ulteriormente quindi andiamo su corpo vado anche questo a smagrolirlo un pochino non so se il termine è corretto e anche sugli addominali vado a ridurre un po' vediamo prima dopo prima dopo vedi come l'ho slanciato e fa uso dell'AI perché deve analizzare veramente tutti gli elementi per rendere la modifica più sostenibile a livello di immagine proviamo anche con questo ci sono tanti elementi sullo sfondo andiamo qui corpo e proviamo proviamo a ridurlo possiamo anche un po' ingrassarlo ma andiamo a stringere un pochino snellirlo e anche lui addome andiamo a dargli un po' di addominali qui abbiamo la cravatta che ci potrebbe fregare quindi attenzione a quello che andiamo a fare qui abbiamo fatto gli interventi ovviamente noi magari lo sappiamo ma uno che non lo sa da così a così immagine rende meglio andiamo sul viso e diamo anche qui un colpetto di assottiglia viso ci potrebbe anche stare vediamo se individua gli occhi quindi ingrandisci gli occhi si wow wow ti sta facendo l'occhiolino da ogni modo si può riconoscere gli occhi e riesce a gestirli anche da questo punto di vista prima dopo come viso o meglio andiamo a vedere l'immagine intera prima dopo prima dopo intervento molto potente rimane per ultimo l'IKEI è una tecnica fotografica che magari può tornarti utile in questi contesti prendiamo questa modifica IKEI cosa facciamo aumentiamo il valore e vedi va a schiarire in sostanza toglie un po' di saturazione e aumenta tantissimo la luminosità della scena qui abbiamo anche l'IKEI standard che puoi aumentarlo IKEI dinamico ci sono tanti elementi sui quali puoi lavorare poi i neri e quindi abbiamo questo effetto IKEI da così a così è una tecnica fotografica impostazioni avanzate abbiamo la possibilità di gestire la tipologia di bagliore il contrasto e la saturazione perché comunque l'IKEI va a togliere un po' di saturazione se la sottoesposizione aumenta la percezione dei colori quindi aumenta la saturazione l'IKEI fa il contrario tende a togliere un po' di saturazione sono gli effetti collaterali dell'utilizzo dell'IKEI questa qui è una tecnica che forse più che sul ritratto l'avrai inserita sul creativo perché l'IKEI è appunto una tecnica creativa per gestire la tua immagine e per concludere andiamo a vedere l'ultimo gruppo strumenti chiamato professionale all'interno di questo gruppo troverai degli strumenti che in realtà non è che si chiamano professionali perché li utilizzano i professionisti ma quanto piuttosto secondo me perché non sapevano dove metterli ti spiego super contrasto l'armonia dei colori sono due strumenti che ti permettono di fare delle cose che magari potevi già fare con altri strumenti presenti sull'Uminar Neo ma questi due sono molto più specifici ti permettono di andare col bisturi sull'immagine per capirci e quindi magari hanno detto vabbè questi strumenti molto tecnici li chiamiamo professionali dopo c'è Dodge & Burn che vedremo è una pratica che ti permette appunto di fare una cosa originale si può fare con altri software ma non si può fare in altri modi con Ruminar Neo è la stessa cosa timbro clone però proprio delle copie degli elementi questo qui l'avrei inserito tra il gruppo creativo a dirti il vero anche timbro clone ad ogni modo cominciamo con super contrasto con questa immagine andando qui ovviamente super contrasto cosa va a gestire il contrasto però come puoi vedere qui all'interno ti permette di gestire il contrasto diviso in alte luci mezzitoni ombre quindi in modo molto più specifico in tre aree specifiche della luminosità della scena e in cosa consiste il contrasto praticamente il contrasto è la differenza tra una zona luminosa e una zona chiara e qui si va ancora più nello specifico contrasto alte luci io da zero lo porto a 100 ed ecco cosa succede vedi che le zone più luminose qui il cielo subisce questo intervento questo effetto sembra smorzarsi un po' la luminosità perché una volta fatto questo dopo io potrò gestire bilanciamento alte luci per decidere se dare prevalenza alle luci o alle zone più scure quindi da un lato va a smorzare ulteriormente le luci dall'altro le va a rafforzare quindi aumenta il contrasto tra le zone scure e le zone chiare qui invece va a smorzare un po' la cosa e questa combinazione ti permette di aumentare ad esempio il contrasto eccolo qui esclusivamente nelle zone chiare guarda prima dopo vedi che va a colpire prevalentemente il cielo zone chiare le zone più chiare della nostra immagine e anche qui le rocce qui in basso se tu le guardi guarda prima dopo va a colpire il contrasto delle alte luci delle zone più luminose vado a ripristinare e andiamo a vedere i mezzi toni i mezzi toni sono la parte principale di quasi tutte le immagini ben esposte e anche di questa quindi cosa succede quando io aumento questo valore ed ecco che aumenta il contrasto generale dell'immagine e poi con bilanciamento mezzi toni potrò decidere di dare prevalenza alle zone più chiare o puntare avere delle zone più scure anche qui dobbiamo gestirlo nel migliore dei modi ancora una volta io dico portiamolo un valore poi lavori ad esempio andando in negativo con bilanciamento mezzi toni io potrò contrastare magari i mezzi toni della mia immagine prima dopo prima dopo c'è un aumento di contrasto che è sempre questa differenza tra zone luminose e zone più scure però che va a colpire prevalentemente i mezzi toni ha un impatto maggiore nelle immagini perché la maggior parte delle immagini ben esposte o che non sono troppo luminose o troppo scure hanno una maggioranza di mezzi toni al suo interno vado a ripristinare andiamo a vedere le ombre ovviamente le ombre esattamente al contrario di come succede per il cielo colpirà le zone più scure da zero lo porto a 100 e infatti vedi che il cielo praticamente non viene toccato però queste zone qua sì e ha questo effetto un po' particolare che portando al valore massimo con bilanciamento a zero sembra quasi un metodo per schiarire le ombre e effettivamente funziona in questo modo bilanciamento ombre anche qui posso schiarire ulteriormente o scurire in modo esagerato però vedi posso ad esempio dire ok no andiamo a scurire un po' le ombre con questo contrasto ombre vediamo prima o dopo prima dopo vedi come da così originale sembra un po' opaca adesso sembra un po' più contrastata appunto ma dove va a colpire soprattutto sulle zone d'ombra per farti vedere come sulle zone d'ombra ha un impatto veramente notevole eccola qui vado su modifica infatti un utilizzo forse non corretto di questo strumento ma l'effetto collaterale interessante è quello di aumentare il contrasto ombre vedi che ti schiarisce le ombre e dopo potrai anche andare verso sinistra e avrei ottenuto una zona molto più chiara guarda prima dopo guarda come mi ha schiarito questa zona mantenendola tutto sommato molto naturale e potrai lavorare anche sulle luci aumentando questo valore e appunto trovando il giusto compromesso per non perdere dettaglio sulle luci deciderò dopo io come lavorare ma molto interessante mezzi toni vediamo cosa succede e vi va a toccare i mezzi toni della nostra immagine super contrasto bilanciato magari con altre funzionalità tipo migliora con AI e ti permette di ottenere dei risultati veramente notevoli per quanto riguarda il recupero dell'immagine forse sul cielo c'è da lavorare meglio ma abbiamo visto che ci sono tanti strumenti che permettono questa cosa andiamo a riportare l'immagine all'originale abbiamo poi armonia dei colori cosa troviamo qui dentro vediamo armonia dei colori beh ha a che vedere con tutto quello che riguarda il colore prendiamo un'immagine che forse è più adatta allo scopo prendiamo nuovamente questa qui e andiamo anche sulla modifica a ripristinare riporto originale ok andiamo sul gruppo professionale e scegliamo armonia dei colori andiamo a racchiudere tutte le varie schede e concentriamoci con le prime con i primi due slider brillantezza e calore brillantezza non fa altro che aumentare l'intensità dei colori oppure togliere l'intensità dei colori vedi che non è anche a meno 100 una desaturazione vera e propria perché qui si intravede ancora un po' di blu e qui ancora un po' di verde e giallo quindi è un intervento comunque che non va a desaturare completamente i colori va a togliere brillantezza il colore e quindi appunto questo effetto particolare abbiamo il calore e poi decidere di dare una dominante più fredda o più calda all'immagine che va un po' a sovrascrivere il tutto ovvio che se hai i colori al massimo e lavori con il calore diventa una cosa un po' strana tuttavia se tu abbassi la brillantezza a valore minimo e poi lavori con il calore puoi dare una dominante più ciano fredda più calda questo è un effetto particolare ecco qui anche quella brillantezza potrebbe anche diventare interessante sotto certi punti di vista ma vado a ripristinare dopo di che si va un po' più nello specifico il contrasto colore andiamo qui dentro e qui praticamente scegliamo il contrasto che anche qui è la differenza tra una parte luminosa e una parte meno luminosa di una scena però questo contrasto che applicato in questo modo sembra normale in realtà tu puoi applicarlo in modo specifico su una determinata tonalità quindi è un contrasto vero e proprio come sempre ma che va a colpire una data tonalità ad esempio se vado sui blu e porto il valore a zero quando io aumento qui aumenta il contrasto dei blu fino a diventare bianco perché ho portato il contrasto al massimo e quindi iperluminoso ma se io qui ho dei verdi potrei decidere di lavorare magari sui verdi lavoro sui verdi vediamo se li trovo gialli gialli più che altro qui sotto ed ecco allora che lavorando in questo modo i blu diventano molto più scuri i verdi diventano molto più chiari e quindi si gioca praticamente su un contrasto colore molto particolare molto interessante vado anche qui a ripristinare andiamo avanti cosa abbiamo ancora colore split color qui possiamo dare in sostanza delle dominanti sui colori caldi eccoli qua o cambiamo l'intensità praticamente del colore e qui sulle parti fredde attenzione cosa significa qui che da una dominante calda e fredda non realmente in realtà calore split color va a dare cambiare praticamente la colorazione in base ai colori che Luminar Neo riesce a individuare sull'immagine in questa immagine ci sono delle zone più calde come appunto qui l'erba eccetera in questo modo vedi va a cambiare a fare uno split sullo color proprio di quelle zone per quanto riguarda le zone più fredde qui le montagne il cielo posso lavorare sul colore di quella zona più tendente a magenta o più un blu freddo andiamo qui sulle info cosa dice il tool l'armonia dei colori offre diverse opzioni avanzate per un controllo di precisione dei colori anche se probabilmente non avrai bisogno di tutti gli slider per ciascuna immagine è comunque utile conoscerli tutti infatti come ti dicevo qui ti dà tanti strumenti ma non è necessario utilizzarli tutti anche perché armonia dei colori è super contrasto probabilmente potresti gestirlo tranquillamente con le altre funzionalità presenti all'interno degli strumenti Luminar Neo andiamo avanti abbiamo il bilanciamento colore probabilmente questo qui è uno strumento che se hai utilizzato dei software avanzati è già più noto ovvero hai qui un menu a tendina dove decidi dove operare sulle ombre sui mezzi toni o sulle luci e per ognuna di queste aree tu puoi lavorare sulle contrapposizioni ciano rosso magenta verde giallo blu praticamente in questa immagine sulle ombre posso dire ok diamo più una tonalità ciano o più una tonalità rossa sulle ombre vado sui mezzi toni posso dire sui mezzi toni più ciano o più rosso andiamo avanti sulle luci più ciano o più rosso vedi che va a colpire e creare queste dominanti in base alla zona e questo aspetto molto avanzato sta nel fatto che puoi si agire sulle luci ombre mezzi toni ma poi puoi agire su delle combinazioni differenti ciano rosso magenta verde giallo blu quindi potrei andare sulle ombre e dire ok dammi un po' di rosso in più dammi anche un po' di magenta e magari ecco un po' di giallo sulle ombre bene andiamo sulle luci e potrei dirgli ok sulle luci dammi un po' più di blu dammi un po' più di verde e dammi un po' di rosso ok fai tutta delle combinazioni ma qui veramente puoi combinare di tutto prima dopo puoi creare degli effetti molto particolari una volta che mai ritrovi la combinazione che ti sta bene sempre anche con la combinazione brillantezza colore vedi puoi veramente fare un casino di combinazioni puoi salvarlo come un predefinito per averlo sempre lì a disposizione e richiamarlo quando ti pare e piace e questo è praticamente il gruppo strumenti armonia dei colori super contrasto e armonia dei colori due strumenti che come vedevi dalle info in realtà puoi anche gestire in altro modo in modo più semplice con altre funzionalità messe a disposizione sull'uminar neo passiamo ora alla funzionalità dodge and burn che questa si può essere considerata una funzionalità diciamo professionale perché ti permette di agire in modo più specifico sfruttando il pennello prendiamo questa immagine che è già preimpostata andiamo a vedere se va risettata o no è a posto e andiamo a prendere lo strumento dodge and burn anche qui se utilizzi photoshop finiti foto magari già lo conosci qui possiamo decidere in sostanza con il nostro pennello infatti quando tu vai sopra qui con il mouse hai un pennello a tutti gli effetti e ci regoli le dimensioni la sfumatura e l'intensità quanto potente deve essere l'intervento e cosa fa puoi fare due cose scegliendo tra più chiaro o più scuro in pratica puoi decidere di schiarire delle zone o scurire delle zone andiamo in schiaritura voglio schiarire qui le ombre ok regolo il mio pennello regolo la durezza lasciamo bello delicato e guarda porto la forza la metto un valore molto basso mettiamo 10 e guarda cosa faccio comincio a spennellare qua ho spennellato vedi qualcosa guarda prima dopo vedi cosa è successo anche qui sul dorso della montagna spennellato ok vediamo prima dopo vedi che ho schiarito un pochino io qui spennellando vado praticamente a schiarire delle zone ho schiarito delle zone le zone d'ombra ovviamente posso aumentare la forza mettiamo aventi ovviamente sarà molto più incisivo come intervento che ho applicato qui in questa zona prima dopo ovviamente funziona anche al contrario scuro quindi cosa va a fare va a scurire ci sono delle zone luminose qui va bene mettiamo un valore molto basso 20 dimensioni del pannello questo dure delicatezza al massimo vado qui e gli dico guarda scuriscimi queste zone perché sono un po' troppo luminose vediamo prima dopo vedi che le zone più chiare ovviamente io sto lavorando in modo grossolano con il mouse serve per farti vedere cosa fa lo strumento prima dopo interviene in questo modo se abbiamo un po' spattrocchiato come fatto ora cancella anche qui regolo le dimensioni del pennello la forza e potrei dire ok bello forte vai a cancellare questa parte qui perché ho proprio sbavato decisamente la montagna però dopo magari vai con una forza molto bassa e andiamo a sfumare qui i bordi che magari ci potrebbe stare qui questa zona un po' più scura vedi adesso si nota meno l'intervento qui sulla zona più chiara della montagna però prima dopo si vede diciamo il risultato lo stesso vale per le zone più scure si possono cancellare le parti che sono state eccessivamente gestite con quel strumento di eccolo qua di schiaritura ok prima dopo l'unica cosa negativa secondo me è il fatto che non c'è la possibilità di avere tipo la visualizzazione degli interventi dove sono stati fatti con una specie di maschera per capire dove siamo intervenuti cosa abbiamo fatto ma è anche vero che se io non noto l'intervento probabilmente è stato fatto bene o non c'è la necessità di ritoccarlo e questo è il dodge and burn ovviamente qui ha il valore che ti permette di decidere quanto deve essere invasivo dal punto di vista complessivo sia con gli interventi più chiaro o più scuro e questo qui è il dodge and burn e per concludere abbiamo il timbro clone che è uno strumento che torna buono ad esempio su questa immagine che abbiamo già gestito ti ricordi che su questa immagine avevamo queste persone che io avevo eliminato vediamo se riesco ad ingrandire un po' di più andiamo al 200% eccolo qua ci sono queste persone che io volevo eliminare e com'è che le avevo eliminate con il metodo precedente ero andato sulle funzionalità essenziali e avevo utilizzato la modalità cancella per appunto vi faccio vedere disegnare l'oggetto da eliminare e poi cliccando su cancella veniva eliminato dalla nostra immagine lasciamo il tempo che eccolo qui Illuminar Neo ha elaborato ma ha eliminato i soggetti e questo era un metodo che potevo utilizzare abbiamo però adesso anche il timbro clone qui sotto è un metodo magari un po' più vecchio o meno efficiente di prima ma come funziona abbiamo sempre il nostro pennello che dobbiamo regolare nelle dimensioni nella delicatezza praticamente la sfumatura e l'intensità ma vedi che è una specie di mirino che noterai quando hai l'immagine della dimensione estesa clicca per impostare una fonte cosa significa clicca per impostare una fonte significa che io devo dire in sostanza al software da dove copiare e quindi da qui gli dico guarda copia da qua ho cliccato lì adesso io quando vado sopra già lo vedo in sovraimpressione guarda il pennello mi fa vedere cosa farà andrà a sostituire questa parte vado ad adattarla e dipingo è meglio questo strumento o è meglio lo strumento cancella in realtà timbro clone ha il suo perché torno indietro per farti capire quando io vado qui gli dico guarda copia da qua e poi vado sopra i soggetti avendo in trasparenza l'elemento che verrà copiato che è questo qui bene riesco anche a trovare qual è il punto migliore per fonderlo qui quindi premo qui e mi muovo e lui ovviamente si porta dietro tutte le parti copiate dal punto lì a destra quindi molto interessante con questo metodo se poi vuoi cambiare il punto di copiatura ti basta tenere premuto il tasto alt su windows oppure option su mac quindi se voglio eliminare questo questo elemento con le persone il cartellone posso anche dire ok premo quel pulsante gli do un altro mirino un altro punto dal quale copiare gli dico copia questi massi copia lì vado qui sopra inizierò a sovrascrivere con i massi copia nuovamente tengo premuto il tasto option su mac alt su windows copia questo e lo copio qua e vado a ricreare le parti che voglio molto interessante questo metodo timbro clone prima dopo è forse più efficiente o meglio più preciso rispetto a quello che avevamo visto prima sulle essenziali il metodo cancella il metodo cancella proprio va a cancellare fine a se stesso e fa tutto in automatico qui vai proprio a copiare degli elementi e forse questo sì è uno strumento professionale infatti come ti dicevo dodging bird e timbro clone probabilmente sono gli unici due strumenti che veramente hanno senso di stare qui all'interno della categoria professionale gli altri due sembrano quasi degli strumenti troppo tecnici per inserirli in essenziali oppure in creativo eccetera ora ti faccio vedere come funzionano le maschere che è una funzionalità opzione disponibile nella maggior parte dei strumenti ad esempio con miglior AI quando tu applicavi l'intervento però c'era anche sempre questa scheda maschere che ti permetteva di accedere a delle funzionalità lo vedremo fra poco ma lo troviamo anche in cielo lo troviamo anche in sviluppo almeno fin tanto che non fai uno sviluppo di un RAW perché in quel caso sviluppo RAW non c'è la possibilità di avere le maschere se andiamo in struttura troviamo le maschere se andiamo in dettagli troviamo le maschere elimina grana le maschere se andiamo in timbro clone non c'è questa possibilità come nemmeno in dodge and burn insomma ci sono degli strumenti che hanno questa funzionalità altri no e per farti vedere come funziona prendo come esempio questa immagine vedi questa immagine io voglio migliorarla un pochino utilizzando ad esempio lo strumento struttura AI seleziono questo strumento porto il valore al massimo e porto anche aumento del dettaglio un valore un po' più alto bella mi piace il problema qual è? che l'intervento viene applicato su tutta l'immagine anche il cielo guarda prima dopo tralasciando il fatto che magari mi potrebbe andare bene il cielo in questo modo ipotizziamo che io voglio applicare questo intervento solo su questa parte più in basso come posso fare? lo si fa attraverso le maschere quindi una volta applicato l'intervento vado su maschere qui abbiamo delle opzioni le vediamo fra poco ma concentriamoci su quello che possiamo fare scelgo il pennello il pennello è la prima modalità che posso utilizzare che consiste con le opzioni pennello dipingi o cancella modalità dipingi regolo le dimensioni del pennello la sua delicatezza ovvero i bordi quanto deve essere sfumati e quanto deve essere intenso l'intervento al massimo e cosa succederà? quando io inizio a spennellare qui vedi che l'immagine si reimposta in sostanza ma io vedo qui in rosso con questa maschera dove verrà applicato l'intervento quindi la parte rossa significa qui verrà applicato l'intervento ok rilascio il mouse ed ecco qui vediamo prima dopo vedi che è stato applicato l'intervento di struttura ma non va a colpire il cielo quindi molto bene questo aspetto sul pennello c'è anche la possibilità di utilizzare cancella per eventualmente cliccando qui eliminare delle parti dove non voglio che venga applicato ad esempio voglio che venga applicato solo su questa piana ho cancellato troppo aggiungo nuovamente quindi dipingi ancora e vado qui a dipingere poi posso anche regolare le dimensioni del pennello eccetera prima dopo faccio degli interventi localizzati ma ci sono anche altre maschere disponibili torniamo indietro qui abbiamo altre maschere ma attenzione qui la maschera è ancora presente che va a colpire la piana e posso sovrapporre più maschere ma in realtà io potrei anche decidere di visualizzare cosa sto facendo quindi espando qui questo gruppo e ho tanti pulsanti ad esempio su mostra posso vedere dove è stata applicata la maschera perché posso anche applicarne un'altra sopra una sfumatura radiale eccetera posso decidere di invertire quindi in un colpo solo questo intervento andrà a colpire esclusivamente il cielo quindi tolgo mostra vediamo prima dopo vedi che colpisce solo il cielo mostra cosa posso fare posso copiarla per incollarla da qualche altra parte infatti incolle è disattivato perché fin tanto che non clicco copia non potrò incollarla posso cancellarla quindi elimina la maschera o posso anche riempire cliccando su riempi mi va ad applicare su tutta la mia immagine l'intervento ok andiamo a cancellare quindi cancella la maschera e posso crearne una di nuova scelgo sfumatura lineare cosa faccio con sfumatura lineare clicca e trascina per disegnare un gradiente clicco qui e trascino lo scopo è sempre quello di applicare l'intervento sulla zona sottostante e limitare su quella sopra questa sfumatura lineare in pratica crea questa sfumatura parte rossa viene applicato l'intervento e parte normale no quindi creo la sfumatura ok mi sta bene andiamo a vedere su aggiustamenti cosa è successo prima dopo vedi che l'intervento è stato applicato ed è soft andiamo a vedere attraverso le maschere tornando indietro le opzioni mostra è già attivo ecco come la maschera è sfumata quindi molto interessante andiamo a cancellare questa maschera e vediamo sfumatura radiale sfumatura radiale ovviamente come può essere applicata clicco qui espando e qui praticamente viene applicata dove? qui all'esterno quindi l'intervento lasciato così mi andrà a colpire la parte esterna però volendo tornando sulle maschere e tornando indietro qui sull'elenco e quindi gestione della maschera posso invertirla e far sì che venga applicata solo al centro eccola qui molto interessante per creare questo punto luce vedi com'è drammatico questo intervento molto molto bello perché ho creato questa sfumatura radiale dal centro e sembra che da qui ci siano luminosità e qui si perde molto molto bella come mascheratura eccola qui poi abbiamo la maschera AI quindi andiamo qui andiamo a cancellare cancello la maschera e utilizziamo maschera AI cosa fa? Luminar Neo analizza l'immagine e mi darà delle opzioni che lui ha trovato ad esempio in questo caso lui ha trovato il cielo le montagne e il terreno naturale montagne ma il cielo è semplice clicco su cielo cosa farà Luminar Neo mi seleziona in automatico il cielo e gli interventi che ho applicato sempre lì vediamo prima dopo mi tocca il cielo torno in maschere e ho sempre la maschera AI disponibile gli dico non il cielo seleziona le montagne e quindi lui eccolo lì mi seleziona le montagne e mi applica questi interventi esclusivamente lì sulle montagne ovviamente dopo io potrò modificare gli interventi qui utilizzando magari il pennello te lo farò vedere dopo non le montagne voglio il terreno naturale ovviamente sarà il primo piano eccolo lì posso fare anche le combinazioni quindi terreno naturale più montagne e lui me le somma e avrò l'intervento che va a colpire queste due zone torniamo qui tolgo terreno naturale e lasciamo montagne ipotizziamo che io voglio modificare questa maschera posso farlo tornando indietro scegliendo ad esempio il pennello e comincio a dipingere seleziono le dimensioni e vado a dipingere vedi che viene aggiunta aggiunto l'intervento che io sto facendo col pennello alla maschera che aveva creato da solo Luminar Neo e quindi l'intervento è un mix tra l'intervento manuale e quello del software questa qui è la funzionalità delle maschere molto potente torno indietro vado sulla visualizzazione delle maschere posso cancellare far tutto quello che ritengo opportuno qui veramente si può fare di tutto dipende un po' da noi la funzionalità maschere è diversa quando lavoriamo sulla proprietà del layer in questo caso se andiamo su maschere abbiamo il pennello sfumatura lineare radiale maschera AI ma abbiamo anche sfondo di ritratto rimozione sfondo rimozione sfondo è un extra che va aggiunto infatti se ti ricordi su extra sulle estensioni io avevo rimozione sfondo attivato quindi andiamo qui proviamolo rimozione sfondo viene fatta un'analisi dell'immagine vediamo che cosa mi combina Luminar Neo ed eccoci qui lui ha individuato degli elementi c'è del cielo montagna e terreno naturale ovviamente quello che già abbiamo visto anche prima e qui è un rimozione sfondo quindi io gli dirò cosa deve tenere io gli dirò tieni il cielo lui mi rimuoverà il resto gli dico tieni le montagne e mi rimuovi il resto giusto per farti vedere montagne eccolo qui terrà buono questo rimuovi e andrà ad eliminare tutto il resto vedrò solo le montagne e spariranno gli altri elementi ecco qui vedi questa questo è il risultato che andiamo ad ottenere qui abbiamo sempre il pennello per le rifiniture dove possiamo veramente fare delle cose aggiuntive per migliorare la transizione per migliorare l'oggetto insomma possiamo veramente sbizzarrirci con la tipologia di interventi o sfondi se vogliamo riconoscere lo sfondo o l'oggetto tutti interventi che possiamo utilizzare per migliorare quello che stiamo facendo andiamo ad annullare l'intervento per appunto vedere tutte le opzioni disponibili abbiamo le varie maschere con rimozione sfondo che è questa opzione aggiuntiva ho preso ora questa immagine perché voglio farti vedere l'ultima modalità di maschera che dovevamo ancora vedere ovvero sfondo di ritratto ho preso quindi una foto di ritratto clicco qui dopo una veloce analisi Luminar Neo mi propone questo tasto rimuovi clicco su rimuovi e riconoscerà lo sfondo e me lo elimina ecco qui Luminar Neo nella sezione modifica permette di lavorare anche con i livelli infatti nella colonna di sinistra abbiamo sempre avuto questi livelli noi abbiamo sempre lavorato sul livello di base con tutti gli strumenti che ci mette a disposizione Luminar Neo ma non abbiamo mai cliccato su questo più adesso lo facciamo aggiungi nuovo livello cliccando lì ci vengono date varie opzioni possiamo inserire degli oggetti già predefiniti messi a disposizione all'interno del software ad esempio questo qui bocche e polvere di stelle noi scegliamo questa modalità vedi viene applicato questo effetto molto divertente possiamo sceglierne un altro scegliamo ad esempio questo vediamo cos'è questo riflesso non ci piace sopra il livello tasto destro possiamo nasconderlo quindi viene semplicemente nascosto oppure tasto destro possiamo rivisualizzarlo mostrarlo duplicarlo rimuoverlo quindi possiamo fare quello che vogliamo ma cosa interessante col nuovo livello che viene applicato sopra alla nostra immagine possiamo innanzitutto regolarlo nelle dimensioni possiamo ritagliarlo riposizionarlo ma poi quando noi lavoriamo con il nostro layer a tutti gli effetti possiamo lavorare con gli strumenti che ci mette a disposizione Luminar Neo quindi possiamo lavorare con tutti gli strumenti disponibili ma soprattutto con proprietà del layer infatti qui possiamo gestire nell'opacità ad esempio per questa tipologia di intervento ci lavoro con l'opacità posso gestire il tipo di fusione qui c'è la modalità scherma ma potrebbe essere normale più scuro moltiplica sfocatura colore quello che ti consiglio di fare è di testare testare queste modalità di fusione vedi cambiano in base anche a tipologia di fusione e di oggetto che ci vai a applicare sopra cambia proprio come l'impatto finale mettiamo ad esempio schermo o scherma come si vuole chiamare che era una modalità predefinita possiamo l'abbiamo già visto fare la specchiatura eccetera mappatura immagine qui io lo chiudo ma posso fare anche un'adatta per adattarlo all'immagine per riempirlo per allungarlo insomma posso adattare questo livello che abbiamo applicato sopra l'immagine con questi strumenti che abbiamo a disposizione ovviamente abbiamo l'opacità e la mascheratura sempre lì a disposizione e come abbiamo visto cliccando qui sul più abbiamo tanta roba disponibile possiamo anche cliccare su ottiene altre risorse cosa mi si aprirà in marketplace per scaricare delle sovra posizioni ok l'abbiamo capito ma c'è questa qui carica immagine molto interessante e guarda cosa faccio torno ai livelli e vado a cancellare questo livello e ci voglio aggiungere un qualcosa di mio che potrebbe essere ad esempio vado qui carica un'immagine vado qui sui cieli e vediamo se trovo qualcosa di carino potrei inserire dei cieli a tutti gli effetti ma potrei anche fare un qualcosa di più potrei scegliere vediamo questa qui guarda faccio proprio una roba no questa qui no perché è verticale voglio un orizzontale vediamo se trovo un mare questo qui un mare dai questo qui apri verrà inserito qui tra le mie immagini lo seleziono e viene ovviamente applicato sopra l'immagine viene sulle proprietà layer applicato con un'opacità del 50% in modo da vedere i due livelli altrimenti se fosse al 100% il livello quello che sta sopra sovrasta e copre quello che sta sotto quindi vedi l'impostazione di base è un 50% qui potrò gestire tutto quello che riguarda l'editing con gli strumenti messi a disposizione ma quello che voglio fare io è far comparire il cielo te lo vado a nascondere voglio far comparire il mare sopra qui sul cielo quindi devo mascherare la parte che non mi interessa andiamo a riattivare il layer e cosa faccio io prima di tutto su proprietà layer lo specchio in modo tale ad avere il mare sopra e dopodiché lavorerò con le maschere andiamo con la mascheratura pennello e quello che ti dicevo quando abbiamo parlato di pennelli dove andrò a spennellare sarà la parte che rimane il resto verrà nascosto quindi spennello qui ed è appunto quello che dovrebbe succedere vediamo ecco qui quello che è successo e posso continuare con la mia spennellatura eccola qua vedi volendo io potrei anche cambiare il metodo di creazione della maschera tipo una sfumatura lineare e dico ok no falla così che dovrebbe venire bene e vediamo un po' su proprietà qual è il risultato finale eccolo qui ho l'applicazione del mio livello posso portarlo anche al 100% oppure vado a sfumarlo cambiare la modalità di fusione magari per trovare quella che mi sta più a genio tipo una sovrapposizione potrebbe starci bene potrei giocare con le nuvole quindi potrei anche modificare l'immagine in questo modo allungandola facendo una serie di interventi come in questo modo per farcela star meglio all'interno della mia scena sono tutte cose che posso fare io questa qui è in sostanza una doppia esposizione diciamo così anche se è totalmente inventata ma sarebbe per farti capire come funzionano i livelli come puoi gestirli per fare delle creazioni artistiche diciamo che questo è un modo anche per spingere Luminar Neo a fare qualcosa di più rispetto a un semplice rock converter a un semplice software per editare le immagini qui si va proprio a creare un qualcosa di nuovo a me onestamente non fa impazzire questo metodo dei livelli ma è disponibile quindi se ti serve come ho detto fin dall'inizio gli strumenti sono solo strumenti se ti servono meglio averli che non averli se non ti servono fai a meno di utilizzarli siamo arrivati quasi alla fine di questo corso ma ci sono altre due cose che dobbiamo imparare molto semplici ma importanti la prima come copiare le impostazioni di modifica da una foto all'altra per essere più veloci nell'editing e poi dobbiamo imparare a come esportare le nostre immagini ovvero come salvare una copia delle immagini modificate iniziamo con il copiare delle modifiche prendo questa immagine e vado a utilizzare i preset per stare prima vado qui seleziono su paesaggi raccolta tocco piacevole eccolo qui ho applicato questo preset immagine prima o dopo e hanno all'interno tutta una serie di modifiche che vediamo qui insomma non ci interessa torniamo sul catalogo questa qui è la foto modificata ed ipotizziamo che io voglio applicare questa modifica su le tre cime di lavaredo come faccio io ad applicare questa modifica alle tre cime di lavaredo dovrei andare a riprendere il preset eccetera comunque replicare tutto no si fa in questo modo vado sopra l'immagine tasto destro aggiustamenti copia aggiustamenti vado qui tasto destro aggiustamenti incolla aggiustamenti e la modifica che avevo applicato su questa foto viene applicata anche su questa in modo molto molto semplice volendo si può anche sincronizzare quindi ad esempio prendo le tre cime di lavaredo seleziono poi anche questa foto tenendo premuto il tasto command su mac o control su windows quindi ho selezionato tutte e due le immagini vedi quella in blu quella in blu con la cornicetta blu è quella di riferimento io vado sopra questa immagine tasto destro aggiustamenti e clicco su sincronizza aggiustamenti questo farà sì che le modifiche delle tre cime di lavaredo vengono applicate su questa foto cosa cambia tra copia incolla e sincronizza questa è prima perché io seleziono questa foto e poi vado a selezionare questa questa e questa quindi ho selezionato una due tre quattro foto però quella di riferimento è quella con la cornicetta blu come si fa a cambiare la foto di riferimento basta cliccare sull'altra vedi che la cornicetta blu è questa e faccio tasto destro aggiustamenti sincronizza copierà le modifiche che troviamo nella foto qui in basso con la cornicetta blu la copierà su tutte le altre sincronizza ovviamente la foto delle tre cime di lavaredo non cambierà perché ha già le modifiche di base quindi non ci sarà nessuna modifica sulle tre cime di lavaredo però tutte le altre sono state modificate ti ho anche fatto vedere che se vuoi reimpostare tutto ti basterà selezionare le immagini che vuoi reimpostare tasto destro aggiustamenti e riporto originale verranno reimpostate questo metodo è molto veloce perché ad esempio qui ho applicato sulla prima immagine delle modifiche poi le ho copiate in sostanza e sto più veloce perché adesso potrei andare dentro questa che è già stata modificata di base prima dopo e potrai applicare magari un strumento aggiuntivo struttura per migliorare ad esempio la struttura dell'immagine potrai andare su migliora con AI aumento questo valore magari lavorando con una maschera e dicendogli no guarda applica questo intervento esclusivamente sulla parte sotto quindi adesso l'intervento sarà applicato in quella parte lì ecco qua e mi lascia tutto il resto a posto torniamo qui come faccio adesso io a salvare queste immagini che ho modificato posso selezionarne una alla volta o tutte assieme selezioniamo questa immagine voglio salvarla vado su file clicco su esporta e a questo punto mi chiederà dove salvare la salvo sulla scrivania metti a fuoco sarebbe la nitidezza traduzione che si portano dietro in modo errato scegli se vuoi dare un colpo di nitidezza finale anche no lasciamo così ridimensiona se lasciamo originale verrà esportata con le dimensioni originali altrimenti scegliamo un metodo di ridimensionamento margine steso cioè il margine più lungo di quanto lo vuoi 2000 pixel oppure il margine più corto oppure imposti le dimensioni che vuoi tu spazio colore ne abbiamo vari lasciamo la serie gb perché la voglio pubblicare sul web formato jpeg altri formati lascio jpeg perché voglio salvarla sul web risoluzione 300 pixel per pollice queste sono impostazioni che sono utili se devi stampare non se devi pubblicare sul web perché sul web si ragiona in pixel qualità ovviamente scegli quali valori io non ti consiglio mai di andare sotto i valori di 80 quindi tra 80 e 100 io se voglio avere un file leggermente più leggero magari lo porto a 90 ma solitamente non scendo sotto questi valori e clicco su salva luminar neo fa l'esportazione di questa immagine che io troverò nella mia scrivania eccola qui la mia immagine esportata con le dimensioni che avevo impostato 2000 di lato maggiore eccetera se voglio esportare più immagini contemporaneamente posso selezionare le tre immagini anche qui vado in file esporta e mi chiederà dove salvare scrivania e qui su mostra opzioni potrò per l'appunto scegliere la nitidezza non metto niente margine esteso 2000 spazio colore tutti i valori come voglio io clicco su salva e qui mi dice già che ha trovato un file con lo stesso nome cosa vuoi fare vuoi lasciare i nomi in modo che siano tutti differenti vuoi sovrascrivere sovrascriviamo via ed ecco che inizia luminar neo ad esportare le tre immagini e quando avrà terminato mi troverò le mie tre immagini sul desktop sulla scrivania eccole qui la prima immagine la seconda e la terza eccole qui con le modifiche effettuate un modo molto semplice per esportare le immagini nella versione per mac non sono sicuro se è disponibile anche per windows quando selezioni un'immagine e vuoi esportarla puoi anche cliccare qui in alto a destra cliccando lì abbiamo la possibilità di esportare l'immagine sul computer tramite mail altre forme di invio tramite il mac e abbiamo anche la possibilità di connetterci con un dispositivo per gestire questo aspetto di cui non ti parlo in questo corso ma che permette appunto di utilizzare un metodo di sincronizzazione col dispositivo metto disco e si apre normalmente una finestra che mi chiede dove salvare con le impostazioni eccetera e questo è tutto quello che dobbiamo conoscere riguardo a Luminar Neo Aspetti finali che magari possono interessare sono più tecnici riguardano tutte le impostazioni di Luminar Neo andando qui su Luminar Neo e impostazioni non so se è presente così anche sulla versione per Windows probabilmente si trova su degli altri menu che avrai a disposizione comunque cerca impostazioni cercando impostazioni potrai vedere dove viene salvato il catalogo nel mio caso il percorso è proprio nella cartella immagini Luminar quello che ti avevo fatto vedere all'inizio quindi immagini Luminar eccolo qui abbiamo tutti i file dove viene salvato il catalogo possiamo impostare le dimensioni massime per la cache ovviamente più è ampio più funziona bene il software però ti va a occupare più spazio sul computer backup automatico possiamo impostare il backup automatico del catalogo in modo da non rischiare magari di rovinarlo se abbiamo danneggiato le foto le dimensioni massime per il backup anche qui più ampio più grande è meglio è però ti occupa più spazio la frequenza scegliamo normale per avere una volta ogni 20 minuti altrimenti abbiamo raramente una volta all'ora spesso una volta ogni 5 minuti una volta a sessione praticamente ogni volta che lo apri lui fa un backup lasciamo su normale che intanto non occupano tantissimo spazio grafica utilizza processore grafico se è possibile e qui abbiamo strumenti analitici ovvero se vogliamo che Skylum possa utilizzare delle informazioni non sono dati personali ma solo informazioni di utilizzo sul software per valutare e fare implementazioni sul software sempre dove avevamo le impostazioni potresti trovare anche installa plugin cliccando lì avrai la possibilità se disponi adobe photoshop e di adobe lightroom di poter installare il plugin per accedere a luminar neo quindi fare delle modifiche con luminar neo direttamente da questi software ad esempio con lightroom classic tu potresti lavorare l'immagine con lightroom come ti ho già spiegato e dopo fare il ritocco finale aprendo l'immagine con luminar neo che viene aperto solo in modalità immagine singola e fare magari una modifica dal punto di vista della migliora con AI per dare quel colpetto di miglioramento all'immagine che la rende più interessante una volta che tu chiudi salvi di intervento te ritroverai l'applicazione della modifica direttamente sulla foto in adobe lightroom ovviamente si tratterà di una nuova foto non andrà a sovrascrivere quella esistente per quanto riguarda i cataloghi c'è la possibilità di recuperare un backup fare un backup creare un nuovo catalogo tutto si trova nel menu file catalogo infatti qui puoi aprire un catalogo crearne uno di nuovo aprirne di recente ovviamente tiene l'ultimo creare un backup o ripristinare un backup clicco su backup e mi chiederà dove voglio salvare un backup manuale del catalogo in modo da salvarlo se voglio oltre all'automatismo che abbiamo già visto ma su file catalogo posso anche crearne uno di nuovo quindi nuovo catalogo vado su immagini e magari lo chiamo vediamo luminar 2023 ok salva che cosa succederà si apre luminar con un catalogo completamente vuoto e qui potrò iniziare ad inserire delle foto ma se voglio riprendere il catalogo vecchio che magari era luminar anno 2022 eccetera mi basterà andare su file catalogo potrò andare in cerca dei recenti in questo caso si ricorda il catalogo precedente quindi vado qui e mi si riapre il catalogo precedente quello con tutte le foto che abbiamo visto in questo corso oppure potrei fare catalogo apri e andrei a cercare nel mio computer ad esempio luminar 2023 ho selezionato la cartella e clicco su apri e andrà automaticamente ad aprirmi il nuovo catalogo nel quale andrò ad inserire le foto e tutto il resto come abbiamo già visto insomma un metodo molto comodo per gestire i nostri cataloghi e siamo arrivati alla fine di questo lungo video di questo corso su Luminar Neo fammi sapere cosa te ne pare andando qui sotto nei commenti ovviamente ci saranno degli aspetti che ho trascurato delle cose che magari ho dimenticato il corso è comunque molto lungo il software è comunque complesso nonostante la sua semplicità e poi si evolve anche con i nuovi aggiornamenti eccetera quindi magari se vedi questo video a distanza di un paio di mesi magari il software è stato implementato è stato migliorato sono state aggiunte delle cose che non trovi in questo video ad ogni modo se il video ti è piaciuto pollice in su metti un like iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e ti piace quello che sto facendo e per il resto ti ringrazio ancora una volta ti ricordo che se vuoi scaricarti questo corso trovi tutte le info sul come fare qui sotto nelle note d'episodio e noi ci vediamo al prossimo tutorial ciao a tutti Grazie a tutti.